e benvenuti alla nona lezione d'Europa eh che oggi si tiene in presenza direttamente da Trapani per quelli che sono hanno potuto eh partecipare in presenza e poi con il collegamento ovviamente con tutti voi partecipanti in remoto eh vi ringrazio per la partecipazione buona giornata eh avviamo subito i lavori il mh la giornata di oggi come voi sapete è dedicata alla non nona lezione d'Europa le lezioni d'Europa sono delle lezioni che abbiamo condotto dal in tutto questo periodo ehm a partire dal mese di aprile fino adesso e che abbiamo stiamo realizzando tutti insieme in un partenariato di rete degli Europe Direct eh di riferimento del centro Europe Direct Roma Innovazione, Europe Direct Siena, Europe Direct Trapani Sicilia, Europe Direct di Chieti e Europe Direct di Verona e il l'attività di supporto alla comunicazione e disseminazione è stata realizzata in collaborazione con la regione Lazio direzione programmazione economica e l'ufficio stampa di riferimento il dipartimento della programmazione regione Sicilia ufficio comunicazione ehm l'associazione nazionale dirigenti scolastici eh il cui presidente oggi interverrà per un saluto istituzionale alla eh ai dirigenti scolastici della regione Sicilia l'università degli studi di Palermo e l'associazione Politeia scusate una piccola rettifica devo fare perché la regione Lazio direzione programmazione economica ha partecipato con l'ufficio Europa. Il ehm l'attività di oggi il format di riferimento è un format che è stato ideato dall'Università degli Studi di Siena eh noi appunto abbiamo condiviso questo format come Europe Direct ehm ben volentieri perché è un format che ci consente di raggiungere gli obiettivi di comunicazione di riferimento appunto delle priorità europee. L'edizione duemila e ventitré prevede l'organizzazione quindi come voi sapete avete già partecipato agli otto dei dieci webinar programmati ne avevamo programmato nove ne abbiamo integrato un altro che si realizzerà l'otto di giugno e il questa attività di di integrazione ovviamente fa sempre riferimento ai temi principali che abbiamo condotto durante l'intero periodo di lezione d'Europa ossia i temi principali che abbiamo che stiamo eh diciamo eh realizzando i temi principali che stiamo portando avanti nel corso delle singole elezioni d'Europa comunità politica europea cittadinanza europea uguaglianza diritti e valori patto europeo per il clima i giovani e nuovi bisogni di competenze i finanziamenti europei. Un dato eh importante è che l'attività viene condotta favorendo la partecipazione di tutti i cittadini interessati indipendentemente dal tipo di formazione culturale e professionale che è stato possibile e rimarrà possibile la possibilità di partecipare anche all'ultimo incontro previsto per l'otto di giugno alle singole iniziative iscrivendosi di volta in volta che gli interessati possono contattare i centri Europe Direct promotori dell'iniziativa e eh che le classi che partecipano oggi abbiamo tante classi in regione Sicilia che si sono collegati possono partecipare eh con la mail direttamente di del con l'account di riferimento del docente e accedere alla lezione d'Europa di oggi. Il viene mh comunicato questa diciamo un po' una un'indicazione di servizio ehm sappiate che c'è la possibilità appunto di ricevere l'attestato il certificato di iscrizione basta semplicemente dopo eh aver partecipato scaricare appunto il questionario che viene previsto eh rispondere al questionario per ricevere la il certificato di della partecipazione. Oggi quindi come vi dicevo lezione nove. Ah scusate mi sentite scusami Marta. Sì eh scusate in sottofondo troviamo la voce del professore Scichilone al quale chiedo di attendere qualche minuto. Sì 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 ok. Per gli passo subito la parola perché stiamo presentando le ultime slide di riferimento della giornata di oggi. Eh grazie professore Scichilone. E il dicevo il quindi diciotto maggio lezione nove euro progettazione programmi progetti e rendi contazione e poi l'otto di giugno avremo la lezione dieci vent'anni di euro. Ehm il riferime questi sono i riferimenti delle attività che abbiamo condotto ad oggi ma vado velocemente così consento a tutti quanti di intervenire anche per i saluti istituzionali e vi ricordo che oggi eh realizziamo questo incontro ricordandoci che l'anno quest'anno il duemilaventitré è l'anno designato anno europeo delle competenze. Ogni anno la presidente della Commissione Europea Ursula Forderlein destina veramente già da tanti anni, già da quarant'anni che si ripete diciamo l'indicazione della della eh di cosa rappresenta l'annualità per l'Europa. Quest'anno eh la e l'anno dedicato all'anno europeo delle competenze. L'anno europeo delle competenze ha l'obiettivo di dare particolare slancio alle numerose iniziative dell'Unione Europea volte a promuovere l'apprendimento permanente e lo sviluppo di competenze. Quale elemento essenziale per sostenere una crescita sostenibile e innovativa volta alle transizioni verde e digitale e per raggiungere obiettivi sociali dell'Unione Europea per il duemila e trenta che auspicano ovviamente a un coinvolgimento di almeno il sessanta per cento degli adulti in attività di formazione o un'occupazione pari ad almeno il settantotto per cento della popolazione adulta. Per accrescere le conoscenze in tema di europrogettazione la lezione fornirà elementi introduttivi operativi su come avviene la preparazione e la presentazione di una proposta di progetto nell'ambito di strumenti finanziari diretti dell'Unione Europea. Eh a partire dall'analisi di alcuni inviti a presentare proposte pubblicati nell'ambito di diversi programmi tematici si passeranno in rassegna caratteristiche procedure e fasi operative per la candidatura di progetti. Un focus particolare sarà dato alla compilazione del formulario per presentare una proposta di progetto nell'ambito del programma cittadini uguaglianza diritti e valori il programma CERV a cura del punto di contatto nazionale del programma appunto CERV. Eh io mi taccio un attimo eh continueremo poi a fare la verifica diciamo l'analisi ulteriore di queste schede che avevamo programmato eh soltanto per da un indirizzo di saluto al professore Scichilone che è il presidente del Polo Universitario di Trapani che eh porterà il suo saluto in collegamento perché oggi non è qui con noi e dopodiché eh diciamo completeremo questa parte di di analisi dell'anno europeo delle competenze dedicato proprio alla giornata di oggi. Una giornata importantissima perché toccheremo con mano grazie alla dottoressa Raffaella Scordino cosa significa presentare un progetto cosa significa cercare i programmi e cosa significa strutturare un progetto da presentare come si risponde ad una call ehm passo la parola quindi al professore Giorgio Scichilone che spero sia in collegamento che possa già subito intervenire grazie. Buongiorno a tutti sono in collegamento non so se mi sentite e mi vedete. Sì benissimo ti sentiamo e adesso facciamo in modo che tu ok professore Scichilone la sentiamo e spero che possiate anche vedere diciamo lo splendido panorama più che diciamo il mio volto che alle mie spalle perché mi trovo in realtà molto vicino a dove siete voi al polo alla sede del polo mi trovo a l'isola lunga di Marsala e però per un convegno importante ehm di di medici organizzato dall'ASP di Trapani eh a cui insomma partecipo molto volentieri come presidente del polo universitario di Trapani tuttavia ci tenevo anche dopo la giornata di ieri essere in qualche modo presente per qualche attimo lì da voi per eh ribadire la mia gratitudine a la dottoressa Ferrandelli per quello che sta facendo e fa per per noi per il polo per questa connessione importante con i circuiti europei a cui noi siamo particolarmente attenti e sensibili quindi dopo la giornata straordinaria di ieri sulla sull'informazione ehm adesso ehm mi vi saluto perché mi chiamano per il mio intervento vi auguro buon lavoro e spero in mattinata ma non lo posso assicurare di essere presente lì da voi più tardi quindi buon lavoro grazie di cuore e buona giornata. Grazie mille dottor Sciglione grazie per questo collegamento e per questi saluti eh ci tenevamo generalmente alla questa grazie grazie a voi buon lavoro grazie buon lavoro anche a voi eh passo la parola a per proseguire con un indirizzo di saluto professore Torre che è il presidente del consorzio universitario di Trapani Sì funziona? No non funziona. Forse il microfono accanto che consente di l'audio Pronto? Sì ora sì buonissimo. Allora io faccio i saluti istituzionali e poi scappo pure io perché devo andare di sola lunga pure io però ci tenevo a essere presente qui perché quando sto con i ragazzi eh secondo me è molto più importante che andare di sola lunga. Do il benvenuto agli ospiti che vengono da fuori e ringrazio Marta Ferrantelli sempre attiva che sta facendo delle cose veramente interessante ringrazio anche i dirigenti scolastici e professori che accompagnano i professori i ragazzi però soprattutto ringrazio la presenza dei ragazzi perché eh quando sono con i ragazzi sono l'uomo più felice al mondo io insegnavo all'università di Bologna e mi piangeva il cuore quando vedevo ragazzi di Trapani che venivano a Bologna a studiare ora come presidente del consorzio universitario di Trapani perché eh voi non lo sapete forse ma eh circa cinquantamila giovani ogni anno vanno via dalla Sicilia di questi cinquantamila giovani e l'ottanta per cento sono della provincia di Trapani e di Agrigento dove non esiste l'università. Quest'anno cominciai dall'anno scorso con l'impermeristica ma quest'anno ho chiesto altri sei corsi di laurea al rettore dell'università di Palermo me ne ha dati tutti e sei e un altro anno mi darà pure medicina internazionale che apriremo a Trapani. Questo perché? Perché voglio che i ragazzi stiano a lavorare nella loro terra. Noi ogni anno le nostre famiglie spendono un sacco di soldi per mandare i ragazzi fuori quindi perdiamo economia non tornano più perché trovano lavoro al nord o all'estero e quindi questa Sicilia non si svilupperà mai in questo modo. Voglio fare laboratorio di ricerca per innovazione tecnologica in modo che rimangano qui a studiare. Io vi auguro uno buon lavoro. Oggi è scappo di corsa perché mi aspettano pure là. Grazie ragazzi. Grazie mille professore Torre. Procediamo dunque dopo questa importante indicazione sullo sviluppo dell'iniziativa a Trapani procediamo con le nostre slide e con i lavori di lezione d'Europa sull'europrogettazione. Un attimo che rifacciamo la condivisione. Dicevamo quest'anno è l'anno europeo delle competenze. Un attimo per la condivisione. Sì. Grazie. Forse non si vedono ancora. Si vedono? Dicevamo comunque quest'anno è l'anno europeo delle competenze dell'anno duemila e ventitré. L'obiettivo dell'anno europeo delle competenze è aiutare le persone a ottenere le giuste competenze per posti di lavoro di qualità aiutare le imprese in particolare le piccole e medie imprese ad affrontare la carenza delle competenze. La presenza di dei ragazzi giovani in aula ma anche quelli collegati e tutti quanti voi e per i a favore di tutti quanti i collegamenti in remoto è molto importante per noi perché ci consente di comprendere quanto importante sono le competenze dirette ma anche le competenze trasversali. Eh oggi in presenza ci sono ragazzi che hanno affrontato temi sulle competenze trasversali. Il l'attività degli Europe Direct è un'attività di comunicazione europea come voi sapete abbastanza importanti perché noi lavoriamo all'interno proprio nei contesti territoriali e dunque eh come gli altri Europe Direct anche il centro Europe Direct Trapani Sicilia eh porta avanti questo motto l'Europa portata di mano il nostro slogan istituzionale. nel corso del duemila e ventitré continueremo l'attività di front office del centro abbiamo uno sportello informativo online ah realizziamo tutta l'attività di informazione attraverso newsletter rubriche e materiale che viene fornito dalla Commissione Europea e dal Parlamento Europeo svolgiamo a molta attività di assistenza nei contesti scolastici con iniziative collegate al PCTO e le iniziative di educazione civica eh ci occupiamo tantissimo di mh riferimenti sulla mobilità e non solo sulla mobilità di Erasmus e del corpo europeo di solidarietà. L'obiettivo di queste iniziative che svolgiamo è favorire la comprensione delle istituzioni, delle politiche e delle attività dell'Unione Europea. Soprattutto sensibilizzare, motivare e stimolare ad una partecipazione attiva alla costruzione europea e rafforzare il senso di appartenenza all'Unione Europea incentivando l'ascolto e il dialogo sulle questioni di interesse dei cittadini. Ehm questo è il calendario degli incontri che fa riferimento a delle iniziative che stiamo realizzando appunto insieme al partenariato. Eh questa iniziativa ehm di cui di cui vedete le slide fa riferimento all'incontro ehm che si si tiene nel contesto delle iniziative sulle fake news eh sul ciclo delle fake news. Eh c'è un ciclo di attività che si rivolge principalmente ai giornalisti e comunicatori pubblici eh ma dati contenuti e l'attualità diciamo degli argomenti che vengono trattati questo ciclo di di eventi che realizziamo sempre nel partenariato con che abbiamo messo in campo con eh il Europe Direct Roma Innovazione eh operativo verso il eh presso il Formez il centro Europe Direct dell'Università di Siena il centro Europe Direct di Trapani Sicilia il centro Europe Direct di Chieti e il centro Europe Direct di Verona in collaborazione con l'Associazione Italiana della comunicazione pubblica istituzionale ha visto la la realizzazione già di tre incontri eh ovviamente vi invito a partecipare anche agli altri due che proseguiranno uno che si realizzano il prossimo incontro sarà il ventiquattro di maggio eh a Verona eh il tema sarà l'inclusione omnicanale dello sportello dallo sportello al metaverso è il trentuno di maggio a Roma con l'ultimo incontro di questo ciclo che sarà informazione e rapporto cittadini istituzioni. Questo partenariato con proseguirà le attività nel prossimo semestre esattamente avvieremo mh tra settembre ottobre l'iniziativa ed è un ciclo piano europeo di lotta contro il cancro. Eh questa programmazione ha l'obiettivo di informare e formare i cittadini e gli studenti su come prevenire il cancro al seno e al polmone. Un'iniziativa importante che ci consentirà di parlare di salute. Il partenariato dell'iniziativa come quello delle fake news è stato è uguale praticamente da dagli Europe Direct che vi ho già indicato ma c'è una piccola integrazione con lo Europe Direct di Venezia e di Nuoro. Eh sinteticamente abbiamo realizzato iniziative con School Ambassador del Parlamento europeo eh parliamo di cittadinanza europea partecipata eh abbiamo cominciato ad aprile proseguiremo le attività nel duemila e ventitré e eh nella nel secondo semestre sono ehm realizzeremo delle iniziative sul sull'intelligenza artificiale e lo sviluppo del territorio quindi tutte tematiche sempre diverse ma tutte nel rispondente alla priorità dell'Unione europea. Eh collaboriamo e realizziamo anche delle iniziative con in collaborazione con JRC sulla biodiversità eh comunque non non vi tedio diciamo spiegandovi un po' quello che facciamo ma tanto comunque queste slide saranno messe online e quindi avrete modo anche di riverificarle con massima con la con maggiore serenità. Questo perché oggi eh non vorrei togliere troppo spazio agli interventi appunto all'intervento della collega che è troppo importante per eh proseguire diciamo nella narrazione di delle iniziative. Allora eh sulla scuola di Open Cohesione mh conoscete svolgiamo attività di collegamento con eh i giovani per una cittadinanza attiva partecipata analizzando i progetti che vengono finanziati dalla politica di coesione eh eh questi sono i contatti eh dello Europe Direct Trapani Sicilia eh che fanno riferimento ai social le mail e alla website eh di collegamento quindi lì nel website ho trovato anche tutti i riferimenti alle attività che di volta in volta realizziamo. Vi ringrazio per l'attenzione eh passo eh la parola alla dottoressa Claudia Salvi di Roma Innovazione Europe Direct operativo presso il Formez. Grazie. Grazie Marta, grazie a tutti i partner di questa iniziativa. Come sapete oggi è la lezione nove. Abbiamo cominciato con un video musicale eh il titolo della canzone Nothing is Impossible. Normalmente quando noi scegliamo il video musicale perché colleghiamo il video ai contenuti della lezione. Perché abbiamo scelto questa video canzone? Perché una delle cose che a noi ci colpisce come centri di Europe Direct è che quando ci contattano per avere informazioni sui progetti europei la prima cosa che emerge è la paura e la difficoltà a presentare una proposta di progetto perché la vedono sempre come una cosa difficilissima e quindi di cui l'idea di eh di concentrare una lezione su come si presenta una proposta di progetto in realtà per per vanificare questa paura. In realtà mh le colleghe eh Raffaella Scordino dello Europe Direct Roma Innovazione e Manuela Marsano che sarà con noi collegata online vi dimostreranno che non è poi così difficile presentare una proposta di progetto nell'ambito dei fondi eh di fondi europei. Eh oggi la tensione sarà su la presentazione di proposta di progetto nell'ambito dei fondi eh diretti. Eh noi abbiamo fatto una puntata su questo sulla differenza tra fondi diretti e indiretti. Lo ripeto molto molto velocemente ma poi Raffaella lo approfondirà eh i i fondi indiretti sono quei fondi che partono da Bruxelles ma vengono mediati a livello nazionale attraverso le regioni oppure i ministeri. I fondi diretti invece vengono gestiti direttamente dalle varie direzioni generali della Commissione Europea a Bruxelles. Un'altra differenza è che mentre i fondi strutturali cercano un po' di portare tutte le regioni europee a un a uno stesso livello di sviluppo. I fondi diretti invece hanno un'altra finalità che è quello di insegnare alle regioni europee a lavorare insieme per il miglioramento dei propri territori. Quindi una delle caratteristiche è quella di creare dei partenariati trasnazionali quindi l'Italia che si unisce alla Grecia, alla Spagna o alla alla Svezia per presentare delle proposte di progetto che diciamo portino delle soluzioni che non siano valide per un solo territorio ma che se adottate possono essere valide per nel contesto eh europeo. Eh ancora però dobbiamo anche qui ci sono delle eccezioni e questo di questo ne ha parlato anche Manuela Marsano quando abbiamo fatto una lezione sul programma CERV ehm ci sono delle eccezioni perché alcuni finanziamenti diretti possono anche finanziare eh dei progetti nazionali eh ma la norma è che quando si usa invece un finanziamento diretto in genere per proporre una eh un'idea europea. Quindi a questo punto io passerei la parola alla collega Scordino che ci introdurrò a quelli quali sono eh gli elementi base per una buona progettazione. Ricordatevi sempre una cosa e questo ora Raffaella ve lo ribadirà fino alla noia ehm il passo giusto per cominciare a fare un progetto europeo non è andare a guardare la scadenza del bando ma è avere un'idea di progetto. Che cosa voglio fare io con questo progetto? Quindi la cosa più importante da fare subito è la definizione dell'obiettivo del progetto. Poi su quello si cerca il bando più appropriato e si costruisce il partenariato e quindi poi si seguono i vari step. Quindi ora lascio la parola a Raffaella. Raffaella ha una lunga esperienza in progettazione europea. Al Formez noi lavoravamo insieme all'ufficio internazionale e devo dire abbiamo avuto più di cinquanta progetti europei aggiudicati anche per merito di Raffaella Scordino. Grazie Claudia, buongiorno a tutti e buongiorno ai numerosi partecipanti che si sono collegati da remoto eh questo ci fa molto piacere perché vuol dire che il tema ovviamente è caldo e di grande interesse anche come esperienza Europe Direct come diceva Claudia ricevevamo tantissime richieste di informazioni su come presentare un progetto europeo e quindi l'obiettivo di oggi è di fornire ovviamente delle eh note introduttive. Il tema è molto grande, non possiamo per motivi di tempo riuscire a coprire tutti gli aspetti però forniremo dei cegni e soprattutto con un taglio molto pratico per cercare di vedere materialmente dove trovare le informazioni e come procedere. Ehm la la lezione di oggi diciamo la chiacchierata di oggi sarà condotta ovviamente insieme a Manuela Marzano che è il punto di contatto nazionale del programma CERV come è già stato detto che purtroppo doveva essere perché doveva essere presente eh qui ma si è collegata da remoto quindi la ringraziamo per la disponibilità e per garantirci comunque il suo prezioso contributo alla giornata di oggi. Ovviamente invito Claudia anche col quale abbiamo condiviso un vissuto eh professionale a collaborare e integrare e insomma a a integrare la presentazione eh ove ritenesse eh necessario. Eh iniziamo quindi a vedere fondamentalmente come le politiche europee, le politiche dell'Unione Europea alla fine arrivano, si traducono su in progetti, vengono attuate attraverso eh dei progetti che impattano sui territori dell'Unione Europea. Eh parliamo di eh politiche Unione Europea attuate anche attraverso i fondi e programmi a gestione eh diretta che sono quindi quelli gestiti direttamente o dalla Commissione Europea, dalle direzioni generali della Commissione Europea competenti per ambito tematico oppure dalle agenzie esecutive della Commissione che sono appunto preposte alla gestione del dei bandi, all'attuazione ehm dei programmi eh tematici a gestione diretta e poi come diceva Claudia c'è anche la gestione concorrente con i fondi SIE e con i fondi strutturali di cui ovviamente non parleremo in questa occasione eh che però è stata trattata anche in altri incontri eh che vi invitiamo a a seguire di cui vi forniremo degli elementi. Eh mh le politiche europee quindi vengono attuate attraverso i programmi a gestione diretta che ora vedremo quali sono per circa il venti per cento eh del budget del bilancio eh dell'Unione Europea e quindi attraverso i programmi tematici vengono praticamente attuate eh le linee strategiche, le priorità di di policy eh nei vari ambiti tematici dell'Unione Europea e attraverso l'attuazione di questi programmi tematici che ora vedremo vengono appunto attuati eh con il finanziamento di progetti a gestione nell'ambito di questi eh finanziamenti progetti che quindi rappresentano l'attuazione concreta quindi sui nostri territori eh delle politiche ehm eh europee. Eh ovviamente ehm le politiche hanno un bilancio, voi sapete che c'è un bilancio pluriennale, un quadro finanziario pluriennale che rappresenta il contenitore finanziario nell'ambito del quale vengono articolate, vengono finanziate eh le politiche europee, non entro nel merito ehm di ciascuna rubrica ma non so perché manca una rubrica che è quella delle risorse ambientali, eccole qua. Quindi vedete che è la consistenza eh del bilancio europeo a cui per il settennio ventuno ventisette si aggiunge straordinariamente anche Next Generation EU eh e che è diviso nei diversi capitoli in queste rubriche eh afferenti a ciascuna rubrica quindi a ciascun capitolo diciamo rubrica finanziaria ci sono anche i vari eh programmi eh tematici per esempio il programma Life che avrete senz'altro eh sentito nominare afferisce ovviamente alla rubrica risorse naturali e ambiente così come ehm per esempio Horizon Europe il grande programma che finanzia ehm il digitale l'innovazione afferisce ovviamente alla rubrica mercato unico innovazione e agenda digitale. Allora qui brevemente eh riportato il link al nostro focus web programmi comunitari che diciamo vi fornisce un picco un primo accesso all'un accesso facilitato alle informazioni sui programmi tematici che sono listati qui quindi non ve li non ve li elenco potete ovviamente le slide lo abbiamo detto saranno rese disponibili sul sito di eventi Pia e quindi fruibili e sono a vostra eh disposizione. Gestione diretta l'abbiamo detto vuol dire che la commissione che è preposta all'attuazione diretta eh di questi finanziamenti quindi si occupa della programmazione della redazione dei work plan dei bandi della gestione dei grant agreement e quant'altro e questo lo vedremo a breve nelle slide. Ehm propedeuticamente vi consigliamo eh intanto la visione di quell'appuntamento a cui faceva riferimento Claudia che ha erogato lei stessa quindi quell'incontro diciamo un po' prodromico che introduce il tema della giornata eh e di cui vi riportiamo il link ed è per il quale è disponibile la registrazione quindi molte informazioni non le ripeto perché sono contenute lì per motivi di tempo cerchiamo di andare subito al diciamo agli elementi essenziali eh della giornata però l'invito è a rifruire di quel di quel webinar perché vi fornisce un quadro informativo molto ampio sulla distinzione tra i vari fondi come ricercare le informazioni su quali documenti strategici e quant'altro e poi qui sono riportati due link che sono molto utili perché sono dire la presentazione del eh EU funding e tender portal cioè il portale attraverso cui che vengono gestite eh tutte le vengono devono essere trasmesse le ehm eh proposte progettuali nell'ambito di questi programmi tematici ora vedremo come funziona però c'è un video in inglese che dura pochi minuti a cura proprio della Commissione Europea che ne spiega il funzionamento e quindi noi ne parleremo lo vedremo questo sito ne faremo un accenno rapido però vi invitiamo a vedere anche questi altri due video che possono essere utili brevissimamente in questo slide volevamo un po' rappresentarvi ehm mettere a confronto quello che è il leader progettuale quindi leader per la presentazione di una proposta di progetto nell'ambito dei programmi tematici con il ciclo del del progetto per l'appunto che è un po' alla base anche della programmazione eh della Commissione ehm europea e quindi vedete che eh nelle classiche fasi quella dell'identificazione ovvero eh della progettazione di massima diciamo la fase di analisi di identificazione delle del contesto delle problematiche a cui vogliamo trovare una soluzione attraverso il nostro programma la fase di di identificazione poi seguita dalla fase di formulazione che è diciamo la fase di progettazione più esecutiva quindi di dettaglio ulteriore operativo al alla formulazione alla preparazione del progetto vedete che corrispondono diciamo nell'iter progettuale eh in basso idea progetto e partenariato sono più o meno nello stesso colore proprio per sottolineare l'importanza che eh il partenariato venga identificato e costituito sin dalla fase di ideazione progettuale e che quindi il partenariato come vedremo a breve sia coinvolto eh sin dalle dalle prime fasi ovviamente una volta ehm sviluppato il progetto nella sua formulazione più esecutiva eh c'è la parte di finanziamento che attraverso le call for proposal quindi questi bandi questi inviti a presentare proposte ehm corrisponde appunto nell'iter progettuale la presentazione della nostra candidatura la selezione e in caso di aggiudicazione poi si va avanti con la realizzazione del eh dell'intervento progettuale previo come vedremo ehm il grant agreement preparation cioè una fase di preparazione del grant agreement quindi del contratto con la commissione europea che dettaglierà nello specifico ehm l'esecuzione del del progetto e poi vedete l'accordo tra i partner e questa è un'altra cosa che vedremo dopo eh il consorzio proponente eh l'idea progettuale la proposta progettuale poi dovrà sviluppare eh un un accordo un consorzio un agreement che definisce un po' eh le modalità operative e i ruoli di ciascun di ciascun partner eh brevissimamente solo un richiamo ovviamente non entriamo nel merito però come diceva Claudia e come la nostra canzone introduttiva voleva significare voleva rappresentarvi non è assolutamente impossibile anzi eh mi permetto di dire se Claudia conferma data la nostra eh non giovanissima età che probabilmente oggi è più facile presentare progetti rispetto a una volta non fosse altro per intanto il mezzo di 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 trasmissione ora è tutto online come vedremo una volta dovevamo preparare i fascicoli prego. Sì eh tra l'altro ne parlavamo con Manuela Marsano appunto che tra un po' si collegherà con noi eh si dice sempre che l'Italia non utilizza i fondi europei in realtà non è vero perché sembra che noi siamo tra i più grandi utilizzatori dei fondi diretti europei eh qualche anno fa avevo letto un fascicolo della commissione che faceva vedere più o meno come gli europei utilizzavano questi fondi e mi colpì molto che per esempio a quel tempo c'era ancora il Regno Unito nella nell'Unione Europea e loro erano più grandi utilizzatori per esempio dei programmi di ricerca e innovazione. L'Italia va fortissimo chiaramente per la vocazione che abbiamo nei programmi nel settore della cultura e così come siamo molto bravi nei programmi per l'ambiente che sono i programmi live noi siamo dei grandi utilizzatori dei programmi i live e anche del programma CERV abbiamo un buon numero di proposte quindi non è vero che gli italiani non sappiano presentare progetti sicuramente è vero quello che ha detto Raffaella ora che ora presentare una proposta di progetto è molto più semplice rispetto anni fa si tratta veramente di compilare un un formulario seguendo le indicazioni del manuale che la commissione fornisce per la compilazione del formulario. Sì però non è appunto solo come vedremo solo un lavoro compilativo ma come diceva Claudia prima appunto non è che individuato un bando cerchiamo di formulare un progetto ad hoc il progetto deve servire ecco perché ci vi richiamiamo la metodologia del project cycle management e dell'approccio del quadrologico perché intanto è la metodologia che viene usata in tutte le organizzazioni internazionali in primis nella commissione europea come base per la programmazione quindi per l'attuazione dei programmi ma perché eh i programmi è vero che è più facile dal punto di vista formale perché avviene tutto online con la compilazione di un formulario che ora vedremo e che vedremo soprattutto grazie a Manuela Marzano del punto di contatto nazionale il programma GERBA però è molto competitivo è un esercizio molto competitivo è vero che l'Italia ha migliorato la propria partecipazione e l'esito il buon esito l'esito positivo rispetto alle candidature presentate però probabilmente perché abbiamo imparato a essere più competitivi e quindi ci vuole un forte un rigore metodologico per la presentazione del progetto perché dicevamo il progetto deve rispondere a delle necessità che ha bisogno a delle problematiche quindi deve offrire delle soluzioni a delle problematiche pre-identificate secondo una logica di intervento che poi che poi vedremo quindi solo un richiamo ovviamente non entriamo nel merito ma per coloro che fossero interessati a presentare una proposta di progetto nell'ambito dei programmi tematici assolutamente va rimetabolizzato se ce lo siamo un attimo perso il project cycle management perché offre strumenti e un approccio metodologico essenziale per garantire la qualità di un progetto in particolar modo nella fase di identificazione che abbiamo visto prima corrispondere alla fase dell'analisi del contesto all'analisi delle problematiche cosiddetto albero dei problemi nella fase di identificazione che assicura la pertinenza di dell'idea progetto cioè che il progetto sia effettivamente rispondente a delle necessità pre-identificate offre delle soluzioni nella fase di formulazione che era quella un po più avanzata cioè di progettazione esecutiva fondamentalmente del progetto ovviamente l'approccio del quadrologico garantisce fattibilità e sostenibilità all'intervento progettuale eh quindi insomma ehm l'invito è a a rinfrescarci la memoria rispetto al ehm project cycle management per presentare una ovviamente l'invito che ho fatto a Claudia di intervenire di integrare di ehm aggiungere dei contributi ovviamente lo faccio anche a Manuela Marzano che è collegata eh che poi ci presenterà più nel concreto delle fish quindi delle call for proposal nell'ambito del programma CERV e anche ci farà vedere un application form ma se Manuela volesse intervenire fare precisazioni o arricchire ehm l'intervento assolutamente la ringrazio per questo come fare eh che cosa è necessario per per presentare una proposta di progetto allora oggi l'abbiamo detto è molto più semplice di vent'anni fa e noi inizialmente lo facevamo vent'anni fa con i fascicoli cartacei ehm lo vedete qui tutte le la decisione di approvazione del programma il programma di lavoro multi eh annuale ehm e qui vedete vado avanti per per rapidità però vi vorrei subito far vedere il portale dei partecipanti che è un po' il gateway dove si trovano tutte le informazioni si trova anche il programma di lavoro multiannuale che normalmente è disponibile sul sito delle direzioni generali della commissione competente per quel tema eh ma si trova anche nel portale dei partecipanti quindi questo strumento ehm informati informativo dove troviamo tutte le informazioni che a breve eh vedremo cosa importante come diceva Claudia non dobbiamo aspettare che esca il bando quindi giocare sempre di anticipo proprio perché è necessario un rigoroso lavoro preparatorio e di condivisione eh dell'idea progettuale con tutti i partner oltre che nella costruzione del partenariato quindi per giocare d'anticipo sicuramente essenziale conosciuto il programma gli ambiti tematici le priorità strategiche che il programma si perfigge eh per le rispettive policy è importantissimo intanto visionare il work plan che non è altro che un documento normalmente biennale a volte triennale o annuale dipende dai programmi quindi diciamo dalla gestione che viene fatta dai singoli programmi normalmente biennale per esempio poi vedremo il programma annuale del CERV del programma CERV biennale che appunto per il 2003 per il 2004 e 2023 e 2024 il work plan non è altro che la programmazione strategico operativa cioè la commissione ci dice per nell'ambito di questo programma nell'ambito di questi obiettivi strategici di queste priorità tematiche ho intenzione di dare esecuzione al programma attuazione al programma e quindi al relativo budget associato e fa una programmazione delle call for proposal quindi se io conosco prima ehm l'indicazione temporale attraverso cui verranno pubblicate le call for proposal e le specificità tematiche di ciascuna eh di ciascuna di ciascuna collo ho tutto il tempo per anticipare il lavoro eh preparatorio vedete qui fondamentale avere un'idea progettuale non assolutamente trovato il bando sviluppo il progetto e purtroppo ehm per tanto tempo abbiamo pensato così ecco perché forse ora la partecipazione italiana è migliorata perché c'è un'inversione di rotta e quindi c'è un lavoro preparatorio molto più eh solido ehm io andrei un attimo direttamente sulla sul portale eh new tender eccolo qui eh perché ehm ho fatto sulle slide degli screenshot ma siccome le slide le lasciamo eh a disposizione sul sito mi sembrerebbe più utile navigare insieme spero che lo vediate bene eh navigare insieme sul sito per vedere come trovare le informazioni come trovare i documenti e come muoverci in questo eh ambiente ovviamente il focus l'abbiamo detto oggi è il programma CERVA quindi intanto come facciamo a cercare ehm una call for proposal togliamo i tenders non l'abbiamo detto ma dove ok parliamo ovviamente di grants quindi di sovvenzioni eh che presuppongono quindi appunto le le sovvenzioni lo vedrete se recupererete il primo incontro erogato da Claudia di cui vi abbiamo riportato il link nella prima slide gli grant sono delle sovvenzioni che vengono date nell'ambito dei programmi per l'attuazione di progetti presentati dal basso quindi dal territorio secondo delle necessità ehm individuate diversamente dai tender che hanno un'attività commerciale quindi noi non vediamo non parleremo di tender ehm parleremo solo di grant di sovvenzioni un attimo che ritorniamo alle slide da scusa al non lo vede zoom lo vedevo ancora sì ok allora mi scuso per i numerosi partecipanti collegati da da remoto ehm siamo sul eh funding e tender opportunities come vedete è un unico gateway di intercambio di eh dati quindi è una piattaforma che match altre piattaforme perché attraverso questo portale come vedremo non solo troveremo i documenti di gara di bando e tutti i documenti programmatici di riferimento ma gestiremo anche l'invio della proposta progettuale e la gestione del grant agreement quindi lo starting point diciamo il punto di partenza è questo ehm sito parlavamo di granza allora abbiamo qui si può fare una ricerca eh sia di eh progetti conclusi e a volte può essere utile per capire cosa è stato finanziato che cosa è stato realizzato quindi capire anche rispetto alla programmazione ma se per esempio ci focalizziamo sul programma CERV eh io posso possiamo prevedere sia i grant che sono previsti in alcuni casi sono caricati sono previsti sia quelli aperti per eh le candidature che quindi sono già eh pubblicati selezioniamo il periodo eh di programmazione ovviamente siamo interessati al corrente periodo ventuno ventisette e possiamo fare una ricerca per programma ehm da Horizon Europe insomma tutti i programmi tematici in questo caso mh cerchiamo appunto Citizen Equality Rights and Values program che è CERV eccolo qui e vedete che escono nove al momento ci sono nove call for proposal aperte e poi alcune di queste ve le illustrerà ehm più ve le ve le nel approfonditamente ve le illustrerà Manuela Marzano questo però è per farvi vedere come consultare il se per esempio a titolo esemplificativo prendiamo una mh un una una call per esempio questa qui una a caso non entro nel merito è solo per farvi vedere la ricchezza di informazioni di documenti che troviamo ecco perché è più facile presentare i progetti perché siamo maggiormente coadiuvati nella fase di eh preparazione qui trovate tutto ehm una sintesi dei topic delle condizioni e soprattutto dei documenti quindi vedete qui c'è il call document lo apro casualmente ma non entro nel merito è solo per farvi vedere come semplicemente troviamo eh la call for proposal che chiudo perché la presenterà appunto il punto di di contatto e quindi ehm troviamo lo standard ehm per presentare l'application form che abbiamo detto viene trasmessa online però poi Manuela Marzano ci farà vedere anche quindi ve la faccio vedere scorro rapidamente ma la vedremo più avanti i contenuti che dovremo rendere disponibili online quindi conoscendo il piano di lavoro conoscendo i documenti di programmazione conoscendo i requisiti diciamo che richiede le informazioni che richiede un application form giocando d'anticipo abbiamo tutto il tempo per preparare una solida eh proposta progettuale perché ovviamente la competizione è aperta a tutti i partner a tutti i possibili potenziali beneficiari di tutti eh gli stati membri dell'Unione Europea e poi show more andiamo qui eh trovate ehm anche il format del grant agreement il grant agreement è il contratto di sovvenzione che eh lo vedremo breve che firma il il lead partner il coordinator il capo del consorzio il partner leader del consorzio eh proponente l'idea progettuale e eh tutta una serie di altre informazioni la cosa importante che vi vorrevo segnalare è che qui trovate anche mh ricerche di mh una facilitazione nella ricerca del partner perché qui sono segnalate tutti gli enti che sono interessati a questa call e che cercano partnership ora poi vedremo come si creano come si trovano i partner sicuramente eh quelli del funding e tender opportunities è una facilitazione immediata perché sappiamo già chi eh se le chi è interessato e possiamo fare una ricerca ehm per paese qui ci sono tutte le ehm i partner dei vari paesi che hanno manifestato interesse per quella call però un altro modo per trovare ehm i partner è andando qui eh partner search quindi nella sezione in alto se noi cerchiamo partner search quindi abbiamo due vie per arrivare o direttamente dal documento della call for proposal e vediamo già chi è interessato oppure se non trovassimo nessuno che ci aggrada nessun partner eh potenziale possiamo cercarlo anche in questa sezione eh individuando per esempio solo organizzazioni non persone fisiche individuando le persone i partner che sono interessati a un determinato programma o se per esempio noi siamo Italia Germania e Bulgaria e il bando richiede partner anche da altri paesi possiamo fare una ricerca anche per paese quindi se ci mancasse un partner in Ungheria faccio un esempio possiamo selezionarli anche per paese questo è solo per darvi un breve cenno ehm e per rendere chiara l'estrema utilità e l'estrema facilitazione di questo eh di questo portale eh Raffaella scusa buongiorno a tutti intanto ciao a tutti buongiorno e grazie per aver per me avermi permesso di esserci anche se non sono potuta venire in presenza rispetto al alla partnership volevo anche segnalare se possibile che come punto di contatto nazionale eh noi offriamo anche un servizio di ricerca partner attraverso la rete dei national contact point europea per cui abbiamo proprio un luogo fisico parlo per Cerv ovviamente eh quindi per chi cerca un partner su Cerv abbiamo un luogo che è online eh in cui ciascuno può eh diciamo indicare la necessità la sua necessità il progetto per cui cerca il partner e che tipo di partner cerca e poi possiamo fare anche un lavoro di ricerca più diretto rispetto alla partnership soltanto una raccomandazione anche la partnership deve essere strategica eh per cui ehm mi raccomando quando cercate un partner intanto prima cosa e grazie Raffaella per averlo ricordato grazie Claudia per averlo ricordato si parte da un'idea molto precisa e molto definita per cui grazie alla definizione dell'idea dobbiamo avere anche chiaro che tipo di partner cerchiamo quali sono le attività che chiediamo al partner e anche in quale paese preferiamo trovarlo perché naturalmente se cerchiamo un partner molto esperto lo andiamo a cercare in un paese in cui quelle politiche sono molto sviluppate se cerchiamo al contrario un partner a cui trasferire delle competenze magari ne cerchiamo uno in un paese un po' più debole quindi non è indifferente eh la ricerca del partner questo lo dico perché a volte ci viene chiesto abbiamo bisogno di un partner per un progetto X bene ma che cosa deve fare che tipo di partner che personalità deve avere volete un'università volete un comune volete un'associazione un'associazione piccola una grande associazione quali sono le competenze che chiedete a quel partner in quale paese deve essere quel partner questo lo dico perché il partenariato è oggetto di valutazione quindi quando noi diciamo servono un minimo tre partner minimo cinque partner non è tanto certo che servono un minimo e il minimo deve essere rispettato ma soprattutto vanno a vedere i valutatori di che tipo di partner stiamo parlando e quali competenze hanno questi partner è oggetto di valutazione quindi mi raccomando anche nella nella ricerca e successiva scelta del partner molta attenzione e molto pensiero dietro ecco molto molto attenzione grazie per questa precisazione poi torneremo sulla strategia del partenariato e sulla valutazione come criterio di valutazione lo vedremo nelle slide ma grazie per questa precisazione claudia ti vorrebbe sì manuela io vorrei che tu ricordassi ai partecipanti cosa fanno i punti di contatto nazionale giusto così un breve di epilogo per ricordare il vostro ruolo sì volentieri allora i punti di contatto nazionale eh sono finanziati dalla commissione europea con un supporto nel nostro caso della presenza del costo dei ministri dipartimento politiche per la famiglia sostanzialmente quello che facciamo è rappresentare a livello nazionale il programma per cui ci occupiamo di eh diffonderlo quindi comunicare il programma eh informare sul programma sulle call sulle politiche sotto del programma e mh facciamo un'attività di coaching che non è consulenza ma è coaching quindi è supporto supporto nella lettura della call eh supporto anche eh nel caso in cui abbiate eh problemi eh diciamo eh specifici eh non possiamo intervenire sul portale che dimostra Raffaella su su quello può intervenire soltanto l'IT help desk della commissione europea organizziamo webinar in particolare o incontri in presenza e partecipiamo molto volentieri eh quando come questa volta invitati a incontri ehm e conferenze eh incontri online o in presenza eh organizzati da altri supportiamo nella ricerca partner appunto eh il nostro obiettivo è quello di aumentare il numero delle proposte presentate ma soprattutto il numero delle proposte approvate sul livello nazionale perché naturalmente un numero maggiore di proposte approvate significa per il nostro paese un aumento di possibilità che eh le politiche che sottolineano al programma ricordo nel nostro caso cittadinanza, uguaglianza, diritti e valori vengano implementate a livello nazionale e quindi trovino vengono proprio realizzate attraverso progetti a livello nazionale e quindi proprio un miglioramento ehm della vita eh dei dei cittadini del nostro paese rispetto a queste a queste tematiche ehm facciamo ovviamente parte di una di una rete di di national contact point europea e e quindi con loro ci interfacciamo e con la commissione europea abbiamo un filo diretto con la commissione europea e con l'agenzia ehm esecutiva EACEA che gestisce parte eh del del programma CERV che è gestito dalla DG Justice, DG Direzione Generale Giustizia e Consumatori insieme alla alla all'agenzia EACEA quindi eh facciamo questo eh supportiamo veramente in ogni modo la presentazione di progetti a progetto approvato possiamo comunque dare una mano eh per la diffusione dei risultati quindi la dissemination quella di dissemination sia a livello nazionale che che a livello internazionale e per cui siamo eh sostanzialmente a disposizione completa di chi intende presentare un progetto sul nostro eh programma ovviamente tutti i nostri servizi sono gratuiti perché è finanziato dalla commissione europea quindi ecco siamo il nostro sito è cervitalia.info e li trovate sia tutte le informazioni sulla eh sul sul programma sui nostri eventi sugli eventi a cui partecipiamo e mh anche la possibilità di scriversi a una newsletter che è piuttosto frequente e così con questa cerchiamo di informare direttamente tutti sulle novità del programma che eh lancia moltissimi bandi in settori anche diversi bandi diversi che vedremo dopo per cui ecco siamo qui a disposizione di chi intende presentare proposte ecco quindi questo facciamo. Emanuele mi viene da dire che quindi se la partecipazione italiana e soprattutto il tasso di successo delle candidature italiane è migliorato ovviamente grazie all'operato dei vari national contact point che si modicano per sensibilizzare e per aumentare l'informazione sui territori quindi a voi eh una cosa che mi sembrava eh torniamo un attimo scusate che è qui le condivisioni non è condiviso su zoom no chiedo scusa no sì ok poi ovviamente allora eh la candidatura poi lo vedremo si può presentare in ehm tutte le lingue dell'Unione Europea però non ha molto senso perché lo il consiglio è lavoriamo sempre in inglese questo perché ve lo dico perché eh qui in questa sezione è possibile trovare grazie a e-translator che è un servizio della Commissione Europea abbastanza recente anche la mh lo troviamo proprio qui nel nei documenti ehm ora non lo trovo però vi assicuro che c'è eh la possibilità anche di scaricare la call for proposal nella nostra lingua però lo sconsigliamo perché dobbiamo lavorare in lingua dobbiamo lavorare con un partenariato trasnazionale non ha senso lavoro a preparare o documentarsi sulla sulla call for proposal in italiano quindi il consiglio è di andare direttamente a alle versioni ufficiali perché poi il grant agreement è in inglese i formulari sono in inglese quindi consiglio di lavorare già di prepararci come con la lingua di lavoro ehm l'inglese ehm torno un attimo sulle slide che provo anche se dovrebbero essere condivise sul zoom ma questi passaggi sono un po' farraginosi questo qui spero ok spero di sì sì perché il passaggio no vabbè si vede si vede bene lasciamolo così ok va davanti non va ok allora ehm brevemente accenniamo brevemente accenniamo a quelli che sono i criteri di aggiudicazione di un progetto che poi vedrete più attentamente con Manuela quando analizzeremo una vera e propria call for proposal ehm eh però i criteri principali di aggiudicazione che quindi troverete eh nella nella call for proposal sono innanzitutto la rilevanza barra pertinenza dell'idea progettuale quello che dicevamo prima se abbiamo fatto una buona abbiamo applicato la metodologia ehm eh del logical framework approach è abbiamo fatto un'accurata fase di identificazione quindi dei fabbisogni delle soluzioni a cui vogliamo trovare dei problemi a cui vogliamo trovare delle soluzioni grazie al nostro intervento progettuale che andiamo a candidare eh la fase di rilevanza per chi la 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 se facciamo un buon lavoro di preparazione nella fase di identificazione di formulazione la rilevanza la pertinenza della nostra idea progettuale ha più chance di essere valutata positivamente e quindi un attimo solo e quindi la commissione quando va a valutare a via l'iter di valutazione delle proposte progettuali che che trova va proprio a verificare se le varie proposte sono aderenti a a dei fabbisogni pre-identificati sono aderenti alle priorità e gli obiettivi specifici eh della della specifica call for proposal se va a contribuire a contribuire alla al come dire all'improvement al miglioramento del quadro strategico e normativo europeo ehm e appunto se gli obiettivi sono coerenti dando delle vere risposte a dei fabbisogni pre-identificati la qualità la qualità è un qualità di un progetto come vedremo a breve nelle altre slide è diciamo il combinato disposto è un criterio aggregato cioè deriva da tante componenti da tanti elementi come vedremo ma fondamentalmente presuppone una forte coerenza interna della logica di intervento che sviluppiamo nell'ambito dell'idea progettuale eh fattibilità tecnica ed economica e anche un efficace governance o comunque sistema di gestione di management del programma e poi l'impatto la sostenibilità eh cioè il miglioramento delle azioni progettuali sono durature garantiscono ehm sono durature anche una volta cessato il finanziamento c'è possibilità che benefici e le soluzioni che noi troviamo col nostro progetto che raggiungiamo col nostro progetto possono avere una durata anche oltre il finanziamento possono avere un effetto moltiplicatore garantiscono insomma la sostenibilità e una maggiore diffusione dei risultati questo è un criterio eh molto 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 importante e come vedremo non va più avanti non so perché oggi la tecnologia non ci aiuta molto il computer non è molto collaborativo quindi non riusciamo ad andare nell'altra slide sì questa questa qua questa va bene questa è la successiva ecco va bene non switcho più sulla sulla sul importa perché sennò diventa troppo complicato eh sì diventa troppo complicato passare da una condivisione all'altra quindi lascio le slide ehm e spero di riuscire a fornirvi tutti gli elementi utili ok grazie molte grazie molte dicevamo questi sono i criteri un esempio del peso eh questo è uno uno screenshot di una di una degli award criteria quindi parlo in inglese anche per abituarci a alla terminologia quindi dei criteri di aggiudicazione come vedete questi criteri qui hanno un peso eh alla rispetto eh il comitato valutatore da un peso alla rilevanza 40 punti alla qualità del progetto 40 punti all'impatto 20 punti e quindi si stabiliscono pure le soglie che da minime che devono essere raggiunte perché il progetto passi eh la fase eh valutativa quindi come vedete la rilevanza è proprio in che misura la proposta progettuale soddisfa le priorità e gli obiettivi della call quello che dicevo prima non non lo ripeto nella nella slide precedente era molto sintetizzato qui però ehm è per farvi vedere come la Commissione europea nelle call for proposal strutturi bene questi criteri e li renda oggetto di rigorosa eh valutazione e quindi i vari i vari pesi altri elementi che vengono presi in considerazione nella valutazione delle proposte spero che Emanuela possa confermare o eventualmente integrare o rettificare sono il valore aggiunto europeo come dicevamo eh la caratteristica è oltre che una trasnazionalità con delle eccezioni perché come diceva Claudio in alcuni casi anche il programma Cervi in alcuni casi consente un finanziamento solo a livello nazionale ma è molto una cosa eccezionale la razio principale la peculiarità dei programmi a gestione diretta e proprio la loro componente trasnazionale il loro valore aggiunto europeo cioè i risultati i benefici che riusciamo a raggiungere a ottenere col nostro pro progetto devono essere a vantaggio di più stati membri e quindi anche promuovere la cooperazione far partner di diversi stati membri trasferimento di buone pratiche e quant'altro l'innovazione innovazione è un concetto ampio può essere sia rispetto ai contenuti al contesto agli aspetti metodologici comunque quanto più innovativo o abbia il nostro progetto elementi di innovazione tanto meglio viene valutato nel suo complesso e poi il cosiddetto value for money cioè eh come vedremo anche il budget è oggetto di mh di 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 valutazione nel senso che le misure proposte il budget proposto per le nostre azioni deve essere eh congruo deve essere non deve mai essere sovrastimato come vedremo nella fase di grant preparation se il nostro progetto è aggiudicato ehm inizia la fase di preparazione del contratto la commissione ci può anche chiedere di ridimensionare il budget che noi proponiamo perché può anche ritenerlo sovrastimato e quindi si fa eh diciamo la finalizzazione del grant agreement a volte possono anche chiederci di ridurre il nostro budget quindi il value for money dobbiamo garantire che i fondi europei siano ben spesi eh nella maniera più efficiente eh possibile ancora non va avanti si blocca mi scuso ma non so perché così non finiremo mai che devo premere quindi ok ok eh dicevamo la qualità del progetto quindi è un criterio abbastanza abbastanza articolato comprende diversi diversi elementi in primis appunto l'impostazione e la concezione quindi eh è complementare con altri progetti già finanziati anzi è auspicabile che sia complementare come vedremo è importante nella descrizione nell'application form c'è proprio una sezione dedicata alla complementarietà con altri finanziamenti con altre attività finanziate all'Unione Europea proprio perché l'Unione Europea deve finanziare le cose una volta quindi dobbiamo cercare di massimizzare i risultati e di valorizzare le sinergie e le complementarietà uno stesso intervento non può essere o interventi simili non possono essere eh finanziati più volte la coerenza con le priorità del programma l'abbiamo detto la qualità dei risultati in termini di capacità di generare significativi impatti rispetto agli obiettivi e l'approccio quindi la coerenza del piano di azione la logica di intervento quindi di nuovo l'importanza quel richiamo metodologico che avevamo fatto eh in apertura un'attenzione importantissima alla strategia e le attività di disseminazione dei risultati cioè di diffusione affinché le nostre attività progettuali possano essere trasferite diffuse quanto più possibile disseminate con l'obiettivo appunto di anche di favorire un'eventuale replicabilità delle attività dei risultati. Il partenariato e la gestione lo aveva detto Manuela prima aveva anticipato è strategico è oggetto di valutazione e poi come vedremo più avanti sono oggetto di valutazione in particolare la operational capacity che vuol dire fondamentalmente la capacità operativa quindi la competenza delle risorse coinvolte dello staff che ciascun partner impegna nel progetto la qualità anche del del partenariato quindi quella strategicità che vi aveva ha richiamato in precedenza Manuela Marzano il project management e le attività di controllo della qualità e quello che dicevamo rapporto il value for money quindi questo rapporto a costi benefici questa efficienza che dobbiamo garantire quindi appropriatezza dei costi rispetto al programma di lavoro che se non lo fossero ripeto la commissione ci può chiedere di ehm ti prego sì volevo anche aggiungere un aspetto su cui a cui su cui dobbiamo prestare molta attenzione che è quello della no della sostenibilità nel senso la commissione europea vuole sapere come noi intendiamo proseguire il progetto nel momento in cui il finanziamento finisce perché quello che accadeva molto spesso in passato che il progetto si chiudeva con la fine del finanziamento e chiaramente vanificava tutti gli sforzi che venivano fatti invece ora bisogna già indicare nel formulario in che modo noi intendiamo proseguire il progetto nel momento in cui verrà meno il finanziamento quindi questo è un eh tra l'altro ehm incide molto anche nel punteggio proprio della commissione quindi è un questo è un fattore sul quale noi dobbiamo prestare molta attenzione si pesa abbiamo visto prima che pesa per il 20 40 il 20 per cento quindi è importante il partenariato allora abbiamo detto elemento strategico di un progetto ed oggetto di valutazione ehm sia per quanto riguarda la capacità tecnica eh sia per quanto riguarda la capacità finanziaria quindi si valuta se quel consorzio quei partner hanno precedenti esperienze progettuali hanno capacità di gestione di budget insomma poi vedremo nell'application form il tipo di informazioni che viene prodotta per comprovare il soddisfacimento di questi requisiti e l'expertise quindi le competenze tecniche che il nostro partenariato riesce a mettere in campo e anche questo è importante come diceva Manuela cioè ehm partner che sa che siano complementari tra loro che sappiano eh fa con la propria expertise complementarsi e garantire la buona eh realizzazione delle attività la distribuzione geografica sempre auspicabile tra più stati membri quindi garantire sempre la dimensione trasnazionale nelle call a volte in alcune call a volte specificato proprio il numero di oltre che il numero minimo di partner anche in alcuni casi di aree geografiche eh preferenziali proprio perché dipende dalla dall'obiettivo di policy a cui afferisce il programma di nostro interesse e la complementarietà tra esperienze e competenze dei partner la disponibilità finanziaria di compiti e ruoli ben definiti nel progetto dobbiamo chiarire nei vari work package nelle varie componenti e progettuali chi fa cosa ehm e quindi garantire una distinzione dei ruoli e ci sono diverse tipologie lo accennavo prima il cosiddetto lead partner che è il coordinatore ehm che è colui che rappresenta che riceve da tutti i partner costituenti il consorzio un mandato ad agire per proprio conto e quindi rappresenta dinnanzi alla commissione europea l'intero partenariato è l'interlocutore il referente formale colui che firma il contra il grant agreement o colui che è responsabile dell'invio online ehm della trasmissione della proposta della gestione del grant agreement del dar conto del monitoraggio del progetto quindi fondamentalmente è l'interfaccia formale del consorzio tra consorzio proponente ehm e commissione europea se posso aggiungere anche un'altra cosa la commissione europea vuole anche vedere il regioni molto diverse tra di loro che collaborano insieme quindi sono ben visti partenariati per esempio dalle zone più sviluppate dell'unione europea con quelle meno sviluppate proprio in un'ottica di crescere tutti insieme eh imparando gli uni dagli altri sì c'è anche un po' quello diceva Manuela se dobbiamo trasferire trasferiamo insieme paesi più performanti più avanzati su una determinata politica se pensiamo alle politiche ambientali energetiche mi viene da pensare ai paesi del nord no che sono ovviamente ai noi molto più performanti del resto dell'Europa e va da sé che le loro buone pratiche debbano coinvolgere paesi metterei anche l'Italia che tanto ha bisogno eh di migliorare le proprie politiche ambientali quindi dicevamo il lead partner il capofila il coordinatore ora vediamo i ruoli poi i partner che ehm che sono e quindi il lead partner è anche il beneficiario il beneficiario principale poi ci sono i partner ehm che eh tutti devono essere come vedremo registrati ora vediamo gli step operativi per la registrazione sul participant portal che è appunto una sezione di quel portale che vi ho fatto vedere un'entità affiliata eh che sono le entità che hanno un legame giuridico con un partner eh e quindi possono essere mh coinvolti nell'attuazione del progetto partner associati che sono quei partner che hanno un ruolo meno importante cioè contribuiscono alla realizzazione delle attività ma non ricevono parte del finanziamento parte della sovvenzione del budget poi eventuali subcontractor che sono eh soggetti terzi cui in alcuni casi anche qui la call lo specifica eh cui possono essere possa essere delegata demandata la realizzazione di alcune attività qualora i partner non riuscissero a realizzare tutte le attività e anche i riferimenti al subcontracting se è possibile in che misure eccetera eccetera ce lo specifica sempre la call for proposal eh e poi terzi che ricevono supporto finanziario dall'azione ci sono alcune call eh che prevedono anche la possibilità che i partner facciano un po' un un'attività cascata ed eroghino parte del finanziamento ehm nelle call for proposal sono specificati i requisiti sono definiti requisiti specifici è il numero minimo dei partner qui una tabella che riepiloga quello che vi ho detto i beneficiari ricevono il finanziamento e lavorano sulle attività le entità affiliate la stessa cosa i partner associati implementano le attività quindi partecipano all'implementazione del work plan ma ehm non ricevono il finanziamento eh eccetera eh l'abbiamo accennato prima eh il lead partner il coordinatore presenta la candidatura sul portale dei dei partecipanti in nome per conto del consorzio ehm è responsabile della gestione dell'implementazione del grant agreement quindi anche del monitoraggio del dell'avanzamento dello stato di avanzamento del del dei rapporti di monitoraggio sull'implementazione delle attività dei deliverable quindi degli output che il progetto realizza eccetera e quindi del relativo caricamento sulla piattaforma attraverso cui avviene la gestione del contratto e poi ovviamente è responsabile anche finanziario è colui che riceve la sovvenzione non abbiamo precisato una cosa prima le sovvenzioni ovviamente non sono mai al cento per cento se non in casi forse eccezionalissimi poi noi qui siamo dando un po' le linee generali è ovvio che in base al programma ci possono essere specificità diverse così come va da sé che su programmi anche la difficoltà eh di presentazione della proposta cambia in base all'articolazione del programma un programma eh complesso articolato strategico come Horizon Europe per esempio che si rivolge a determinate eccellenze a determinati progetti di ricerca sviluppo insomma una cosa molto challenging direi è ovvio che presenta in fase di candidatura della proposta progettuale un livello di complessità eh maggiore rispetto ad altri programmi che magari si prefiggono più una cooperazione amministrativa una cooperazione su determinate tematiche per trasferimento buone pratiche eccetera eh e quindi comunque dicevamo il coordinatore gestisce le operazioni finanziarie riceve il finanziamento finanziamento che dicevamo non è mai del cento per cento è sempre la call for proposal che stabilisce l'importo del finanziamento cui deve della della sovvenzione europea cui ovviamente il consorzio deve garantire il 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 proprio cofinanziamento e quindi il proprio contributo per l'attuazione anche anche un impegno finanziario non comprovare il proprio impegno anche mettendo delle risorse che però sono sempre del venti trenta per cento perché mediamente ferme restando le specificità dei vari programmi ma mediamente le sovvenzioni vanno da un sessanta al novanta per cento ehm appunto dei contributi come trovare un partner allora un po l'ha detto manuela marzano i punti di contatto nazionali svolgono un ruolo fondamentale su questo subito sono pertinenti allora ben volentieri posso finire solo questo qui ehm quindi il ruolo dei punti di contatto nazionale fondamentali che fanno anche un accompagnamento alla proposta di progetti alla presentazione dei progetti eventuali contatti già esistenti partecipazione a conferenze o infodays ehm e poi la lista dei progetti vi ho fatto vedere prima ma non ci torno per evitare problemi di condivisione che è sul portale utender funding opportunities c'è la sezione eh progetti finanziati project result quella è importante perché oltre che ad aiutarci nel valorizzare la complementarietà con altri progetti già finanziati eh che è una parte della application form come vedremo eh ha il vantaggio anche che ci permette di vedere chi è implementato già progetti e e ovviamente i partner e anche con che ruolo se con un ruolo di coordinatore quindi con un ruolo principale o con un ruolo di partner semplice ovvio è che eh se trovassimo partner attraverso la lista dei progetti approvati vedai verificando i progetti approvati ehm questo ci aiuta anche perché vuol dire che conoscono già eh le regole del gioco fondamentalmente quindi sono partner già con esperienza se siamo un se ci approcciamo per la prima volta a presentare un'idea progettuale è ovvio che non avremo mai il compito di un leader di di capofila possiamo proporre un'idea progettuale ma poi non possiamo assumere la responsabilità di liderare di guidare il consorzio se non abbiamo pregresse esperienze quindi eh questo ci aiuta anche a calibrare la scelta perché se siamo se ci approcciamo per la prima volta la presentazione della proposta è meglio andare con partner che abbiano già una maggiore esperienza eh sui progetti europei o magari auspicabilmente su quello specifico programma perché conoscono già le regole del gioco le priorità del programma e quant'altro no più che aggiungere vorrei rivolgerti qualche domanda che poi tra l'altro è una domanda del pubblico le persone fisiche possono partecipare come partner? Allora le poi lo vedremo con una con le call dipende dalle call poi Manuela se vuoi intervenire questa è una domanda forse più eh su cui puoi rispondere tu io ho risposto in chat in realtà ah ok dicevo nella stragrande maggioranza dei casi le persone fisiche non possono partecipare ai progetti ma solo le persone giuridiche solo le persone giuridiche è sempre specificato dalla call sono pochissimi pochissimissimissimi i casi in cui possono partecipare persone fisiche eh non in CERV comunque però comunque in generale la call for proposal spiega esattamente tipologia di soggetti quindi se devono essere amministrazioni pubbliche piuttosto scadeniche universitarie la tipologia viene stabilita di partner potenziali viene stabilita dall'applicare dalla call for proposal poi con Manuela la vedrete la scorreremo con attenzione e vedrete che ci sono quindi una lettura attenta approfondita della call for proposal dei documenti strategici e programmatici di riferimento ehm e del work plan che ci aiuta a capire dove la commissione spinge rispetto all'attuazione delle varie call è uno strumento preziosissimo se noi abbiamo un'idea progettuale riusciamo a lavorare ad anticipo abbiamo veramente tutti gli elementi per lavorare bene nella presentazione di un progetto. Sì comunque il segreto è veramente la lettura attenta della call for proposal perché quella che vedremo più tardi addirittura per i differenti topic eh ci sono differenti tipologie di partner che possono partecipare quindi ehm diciamo che solitamente la risposta è nella maggioranza dei casi solitamente ma non si può dire è sempre così perché ogni call è veramente storia per cui ecco mi raccomando la lettura attenta certamente. Ehm abbiamo ancora un'altra ne abbiamo varie domande. È previsto un sistema di controllo che verifichi i risultati raggiunti alla fine del progetto approvato e finanziato? Allora io inizio a dire la mia però Manuela integra come ritieni meglio ovviamente sì ehm nella fase di implementazione la del progetto eh il lead partner l'abbiamo detto deve dar conto degli avanzamenti dei rapporti di monitoraggio dei delivery quindi lente la grant authority la granting authority cioè la DG o le l'agenzia esecutiva che gestisce quel programma e che quindi con la quale andiamo a firmare il grant agreement è preposta alla verifica sull'attuazione e c'è anche un controllo rigoroso su questo non so se Manuela vuole aggiungere eh dell'altro però c'è molta attenzione alla fase attuativa realizzativa ai relativi deliverable alla qualità degli stessi. Sì eh soprattutto e questa è aumentata col tempo eh perché l'attenzione si è un po' spostata dalle verifiche finanziarie molto puntuali molto pesanti alle verifiche sui contenuti e sulle attività realizzate sulle sull'impatto che le attività hanno sul territorio eh quindi se l'attenzione della commissione ripeto si è proprio spostata all'impatto oltre a questo eh naturalmente c'è un ci sono degli obblighi da parte di chi ehm ottiene un finanziamento e sono eh tutti inseriti nel nel contratto di a cui accennava prima eh dottoressa Scordino e in alcuni casi c'è addirittura il vincolo per cinque anni non solo a mantenere tutta la documentazione a disposizione ma sia anche suscettibili audit successive per cui bisogna insomma essere non è non è possibile per esempio cambiare destinazione d'uso ad alcune eh attività attività o se si sono state fatte alcune attività anche soft per implementare servizi queste devono rimanere nel tempo se si è garantito che rimangano nel tempo quindi c'è sicuramente un'attenzione su questo sulla sostenibilità di lungo periodo e sull'impatto dei progetti ma attenzione è una verifica. Sì no Manuela solo per dire che ehm le verifiche tu hai detto cinque anni una volta era sette quindi c'è questo sforzo della commissione anche di semplificare un po' la vita agli enti attuatori insomma dei progetti una volta i twinning no? Dovevamo tenerli per più anni quindi ora come diceva eh l'ottessa Marzano il periodo di conservazione degli atti della documentazione amministrativo contabile si è ridotto cinque anni però ricordiamo pure lo vedremo quando daremo degli accenni sugli aspetti finanziari sulla ammissibilità dei costi e sugli elementi di budget vedremo pure come ci sono delle semplificazioni e qui si torna rispetto al tema delle verifiche eh contabili eh ci sono degli schemi di grant di sovvenzioni che non vengono che sono lamp sam che vuol dire forfettari e quindi ovviamente su importi forfettari le verifiche ehm correggimi se sbaglio Manuela sono meno rigorose perché ovviamente la il lamp sam viene ma lo spiegherai tu meglio quando presenterai la colla relativa eh afferiscono a realizzazione di attività che però a cui corrisponde appunto un importo viene riconosciuto e quindi budgettato inserito nel budget e riconosciuto eh dalla commissione un importo forfettario quindi non sulla base dei cosiddetti actual cost cioè dei costi effettivamente eh sostenuti ma questo poi lo vedremo dopo. Sì esattamente così è proprio è proprio in quest'ottica ehm la commissione ritiene che per realizzare una certa attività sia necessario un certo budget per cui non va a verificare la spesa del budget ma la realizzazione dell'attività quindi poi sta chi realizza l'attività può diciamo spendere quella quella somma può spendere anche un po' meno potrebbe dover spendere di più però quello che va a giustificare la commissione è la reale realizzazione dell'attività non la spesa quindi viene spostato completamente il focus dalla dalla verifica finanziaria alla verifica eh tecnica e di sostenibilità. Eh Manuela ho per te probabilmente una domanda per te questa come si procede nella scelta dei valutatori per i progetti presentati? Se parliamo dei valutatori eh come la commissione sceglie i valutatori eh cioè i valutatori i valutatori valutano ovviamente le proposte presentate e la la commissione eh ha diciamo un una lista di valutatori periodicamente viene aggiornata eh chi si sente in grado di poter valutare progetti può inviare il suo curriculum sempre attraverso il funding and tender portal e per cui si può che chiunque può diventare valutatore della commissione europea se ovviamente dimostra di avere delle competenze e delle capacità. I valutatori ehm non eh diciamo ehm nessuno sa chi valuterà il progetto cioè quindi non c'è modo di eh eh di stabilire un contatto tra il progetto e il valutatore sono quindi assolutamente indipendenti e mh ciascuna proposta è valutata da più valutatori eh in maniera che poi appunto ciascuno dia un un giudizio e poi c'è una parte di un'azione di consensus che è il momento in cui i tre o cinque valutatori a seconda dei casi si incontrano discutono del giudizio che hanno dato se sono tutti concordi giudizio è quello se invece non sono tutti concordi si trova eh un accordo sulla sulla valutazione del progetto. Naturalmente ehm vale vale la pena forse dire che ehm i progetti possono essere finanziabili ma non finanziati quindi è possibile che un progetto abbia un'alta valutazione ma non sia così alta da poter essere finanziato perché ciascun bando mette a disposizione un budget fisso per cui se ci se siamo tra virgolette sfortunati che nella nostra call siamo entrati in competizione con progetti straordinari può essere che il nostro progetto sia comunque buono ma non così buono da essere finanziato quindi il gioco è proprio cercare di stare eh ad un livello molto alto per questo ci vuole veramente molta attenzione a tutti i particolari del progetto perché eh potremmo semplicemente omettendo una frase avere quel punto quel mezzo punto in meno che non ci consente il finanziamento comunque in generale è la commissione che fa la selezione per i valutatori che sono totalmente assolutamente indipendenti. Un'altra domanda è è previsto un sistema di controllo che verifichi i risultati alla fine del progetto finanziato? Sì c'è una una parte legata diciamo alla si chiamano deliverable cioè noi quando scriviamo un progetto garantiamo alcune alcune produzioni che possono essere fisiche o no eh quindi può essere la realizzazione di una conferenza o la realizzazione di un libro quindi non necessariamente non sono necessariamente fisiche e per cui c'è una verifica che queste attività siano state eh compiute quindi i risultati vengono tutti valutati e attraverso un sistema di monitoraggio che mette in campo la commissione in alcuni casi continuo cioè man mano che si realizza se le attività si caricano e poi comunque c'è sempre un final report del progetto e anche spesso un midterm quindi un un report di medio termine in cui si dà alla così dalla commissione eh diciamo un quadro di ciò che è stato fatto. Eh forse vale la pena dire che eh ciascun progetto ha un referente in commissione europea si chiama il progetto officer quindi è un un funzionario della commissione europea o dell'agenzia esecutiva a seconda di chi gestisce parlo per certo il eh bando eh che è diciamo il nostro appunto riferimento di progetto all'interno della commissione europea con lei o con lui possiamo sempre confrontarci se abbiamo problemi e e e sono loro a poterci indicare l'eventuale strada nel caso in cui avessimo difficoltà di realizzazione per qualsiasi ragione immaginate nell'epoca covid che cosa è stato cioè tutti i progetti hanno avuto problemi tutti i progetti sono stati anche modificati e la il primo riferimento è sempre il progetto officer e dobbiamo considerarlo un alleato del nostro progetto perché è interesse questo è un è un passaggio che vorrei fare è un è un interesse della commissione europea che i progetti vengano realizzati e implementati correttamente per cui non siamo in competizione con la commissione europea ma è il nostro interesse che i progetti vengano realizzati bene ed è lo stesso interesse alla commissione europea quindi il progetto officer è davvero un alleato che in caso di difficoltà o bisogno ci può aiutare a trovare la strada migliore quindi eh stabilite questa relazione col progetto officer che vi aiuterà sicuramente di grande trasparenza e abbiamo ancora una domanda per te il coordinatore del progetto può attivare dei contratti di collaborazione con altri soggetti non registrati come partner allora eh sì eh questo è il caso del subcontractor quindi eh in alcuni casi si possono ehm subcontrattare alcuni pezzi di attività l'importante che non si si subcontrattino intere attività eh quindi delle porzioni eh di attività possono essere subcontrattate naturalmente questo in alcuni bandi è necessario prevederlo in fase di scrittura del progetto cioè dire non lo so il nostro sito web lo subcontratteremo perché all'interno non abbiamo competenze per fare il sito web chiaramente il consiglio è sempre quello di mandare in subcontraenza attività che non sono eh fondamentali o core del progetto quindi se il mio progetto è una ricerca sull'innovazione sociale non potrò subcontrattare la ricerca sull'innovazione sociale ma subcontratterò una parte residuale che può essere la stampa del report piuttosto che eh non lo so ehm la la creazione del sito web o la creazione del logo del progetto eh attenzione alla c'è una piccola differenza tra il subcontractor il subcontractor è tipicamente persona giuridica quindi è una società e si subcontratta un una porzione di attività e altra cosa invece è l'expert l'external expert che quindi può essere una persona fisica un professionista che ci supporta nella realizzazione di alcune attività per esempio posso avere bisogno di un esperto legale per motivi contrattuali se il mio progetto lo 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 prevede oppure eh non so all'interno della mia ente associazione non ho un social media manager e ritengo che sia molto importante avere una diffusione sui social del del mio lavoro ehm diciamo fatta da professionisti in quel caso io però subcontratterò un esperto che ripeto una persona fisica e quindi va poi in staff in quel caso quindi sono due voci di spesa diverse il subcontractor è lo staff e lo second staff quindi diciamo la la delega a un esperto di una di una porzione di attività del progetto. Quello che sarebbe una collaborazione esterna per tradurlo secondo la normativa italiana non interzionale permanente di staff ma un consulente esterno. Esattamente esattamente così esattamente così eh ovviamente il consiglio di limitare il più possibile eh sia la quota di subcontractor che ehm la quota di esterno non non dico tanto ma la quota di subcontractor perché non dobbiamo mai dare al valutatore l'idea che parti importanti del nostro progetto sono subcontrattate perché potremmo ricevere come valutazione eh così un remark dicendo ma forse potevate prendere all'interno del partenariato un partner che realizzasse questa attività quindi ripeto subcontractor per attività residuali e della di breve durata nel progetto e quindi non so devo organizzare una conferenza posso prendere un'agenzia che mi aiuti eh a prontare la sala eccetera sono attività che non impattano sul risultato sul contenuto del risultato no? Quindi ehm ripeto subcontrattate pezzi non fondamentali per la realizzazione dell'attività. Ancora una domanda come individuare un glossario dei termini dell'UE dei programmi UE? Ma diciamo che ehm se già andate nella nostra banca dati programmi comunitari trovate sia il nome del programma che poi l'acronimo io non riesco a interpretare bene questa domanda così come esiste un glossario dell'Unione Europea dei termini dell'Unione Europea. Eh Manuela tu conosci qualche altra cosa in aggiunta a questo? No adesso esatto un glossario proprio dei termini dell'Unione Europea no ehm però eh la cosa che poi lo vedremo anche nel bando proprio nelle ultime pagine del bando eh c'è c'è una spiegazione puntuale dei termini che potrebbero essere un po' più non sono non sono tanto termini complicati ma magari danno una spiegazione al ripeto al termine del bando di che cosa intende la Commissione Europea per quel per quel termine perché se noi per esempio pensiamo agli associati no? L'associato in italiano ha un associato traduciamo in associato e associato ha un tema ha un significato. La Commissione Europea lì ci spiega che cos'è il partner associato quindi ehm in generale e questo al termine delle delle call possiamo trovare questi approfondimenti sul significato di alcuni termini però un glossario vero e proprio non esiste la lingua comune dell'inglese e e quella e e e i bandi sono scritti in maniera abbastanza chiara ecco. Ma volevo aggiungere solo una cosa se posso eh Manuela rispetto a quello che hai detto tu anche che dicevi che nella call c'è una facilitazione anche alla fine su chiarimento su terminologica eh però volevo anche segnalare che nella sezione del portale tender ehm tender funding opportunities quando andiamo a cercare la call eh ci sono anche le facca quindi che possono aiutare nella preparazione quindi sono le domande poste da altri soggetti interessati e come se le ponessimo noi pure vengono raccolte e rese pubbliche quindi è un ulteriore elemento un ulteriore strumento che ci può facilitare eh vedere le facca poste tutti i quesiti possono rispondere a delle domande o a dei dubbi anche interpretativi che possiamo avere e poi anche nella call for proposal eh ci sono i riferimenti dell'autorità diciamo contraente quindi riferimenti a cui rivolgersi eh nel caso ci fossero anche problemi no necessità di dichiarimenti o problemi interpretativi quindi per dire tornare al concetto di prima il grande accompagnamento che la commissione oggi fa rispetto a tanti anni fa rispetto alla partecipazione. Allora abbiamo perso un pezzo del microfono ehm un'altra domanda è sarebbe possibile approfondire il concetto di entità affiliata con che modalità può partecipare al progetto? Questo magari lo vediamo quando presento la call perché è una domanda molto specifica ehm ehm puoi presentarla ora Manuela così siamo entriamo nello specifico e sì allora ehm allora io non ho nulla condiviso chiedo conferma vero? No posso intervenire. Ok condividiti così magari diamo concretezza anche a quello che abbiamo detto finora ed è sicuramente molto utile. Ok vedete bene? Ok riuscito a vedere bene il mio schermo? Sì dottoressa le confermo che vediamo bene. Perfetto grazie. Prego. Allora dunque io qua presento due call eh sempre del programma CERV. Allora giusto una brevissima introduzione sul programma CERV. CERV è l'acronimo di Citizens, Equality, Rights and Values quindi cittadinanza, uguaglianza, diritti e valori ed è un programma nuovo nel senso che nelle precedenti programmazioni CERV era diviso in nel programma DAFNE quindi nel programma della lotta alla violenza contro le donne, nel programma REC quindi quello legato ai valori e nel programma Europe for Citizens che è il programma legato alla partecipazione e alla cittadinanza. Mh questi tre programmi della scorsa programmazione sono confluidi tutti all'interno di CERV e questo fa di CERV un programma che ehm è intanto voglio dirlo abbordabile quindi si possono scrivere progetti non sono troppo complicati e potete avere successo su questo programma che è anche un buon rate di successo in particolare molto buono per l'Italia. Ehm quindi intanto questo l'unica attenzione da fare è che ciascuna call è un po' un mondo a sé perché non so per chi ha avuto possibilità di vedere la call di DAFNE era una call molto complessa per grandi intermediari, la call per esempio di Twinning cioè il bando giamellaggi per i comuni è una call a cui possono partecipare anche veramente piccoli comuni con dei budget anche molto ristretti per cui è di facilissimo accesso. Quindi ehm vi vi mostrerò oggi due call diverse e sono equal ehm e l'altra invece legata alla partecipazione dei cittadini e vi spiegherò un po' perché sono diverse però ecco la raccomandazione l'ho già detto prima è di leggere con attenzione ciascuna call perché all'interno di ciascuna call voi troverete sicuramente delle differenze. Allora questa call for proposa che equal ha l'obiettivo di promuovere l'uguaglianza, di lottare contro il razzismo, la xenofobia e la discriminazione. È una call lanciata all'otto dicembre duemilaventidue che chiuderà il venticinque di giugno quindi vedete aperta per sei mesi quindi il tempo c'è naturalmente eh lo so eh sono stata progettista per tanti anni e ci si riduce un po' sempre alla fine però invece riuscendo a programmare quindi avendo un approccio strategico al finanziamento e quindi programmando con tempo e con attenzione la nostra partecipazione ai programmi vedete che di tempo ce n'è davvero tanto per scrivere dei buoni dei buoni progetti. Allora io proprio scorrerò tutta la call così abbiamo modo di guardarla insieme e quando vi troverete a leggerla sarà per voi un percorso più semplificato. Naturalmente c'è il table of contents quindi l'indice in cui abbiamo tutti tutti i temi trattati all'interno della call. Allora eh introduzione punto zero tipicamente l'introduzione la saltiamo so di che cosa si parla sì so di che cosa si parla ma qua abbiamo due other link quindi la regolamento la you financial regulation e il lato diciamo che lancia il regolamento che lancia CERV sono linkati qui. Questo lo dico perché molto spesso viene saltata la fase di studio dei documenti che stanno al di sopra della call. Cioè anche la call è l'ultima emanazione. Partiamo dalla dalle grandi strategie del settennato ventuno ventisette. Arriviamo alla alla scrittura dei programmi di lavoro al lancio dei programmi. Dal programma settennale ci si riduce a programmi annuali o biennali come diceva prima dottoressa Scordino da questi programmi vengono lanciate le call quindi capite che la call è l'ultimo passaggio e bisogna conoscere tutto ciò che c'è sopra. Capisco che sia molto lavoro però vi assicuro che una volta fatto quello resta e visto che i programmi durano sette anni è un buon investimento. Io lo dico perché in generale riuscire ad avere un quadro molto ehm solido del dove ci troviamo e da dove viene il programma di finanziamento che stiamo applicando ci consentirà di avere dei progetti eh migliori. Vedete che qua c'è in indicazione anche del programma di Labmovoro duemilaventitré duemilaventiquattro e come accennavo prima chi gestisce il programma che è la DC Justice and Consumers. La call è in inglese. Vedrete. Ehm allora eh in alcuni non tutte le call sono anche tradotte in italiano. In realtà è possibile chiedere la traduzione in italiano direttamente alla Commissione Europea. Quindi questo lo dico ehm è una cosa bizzarra ma non possiamo farlo noi come National Contact Point. Lo può soltanto fare chi ha un interesse specifico nella presentazione del progetto. Quindi se eh tra chi ci sta ascoltando c'è qualcuno che vuole presentare un progetto eh su questa call. Se la call non è già stata tradotta quindi se qualcun altro non l'ha già chiesta può chiedere la traduzione alla Commissione Europea che la fornisce più o meno in quindici venti giorni. Quindi nel caso chiedetela appena esce la call. Eh ricordatevi sempre che sono traduzioni automatiche quelle che fornisce la Commissione Europea e che in caso di conflitto fa sempre fede la call scritta in inglese. Quindi il mio consiglio è quello di leggere la call in inglese e come te come punto ve lo lascio eh scrivere per scrivere progetti europei per lavorare in questo ambito ecco una conoscenza dell'inglese mh non 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 dico a livelli incredibili però è necessaria una buona conoscenza dell'inglese. Questo lo dico perché è così eh è una verità. Ehm quindi dopo di che vediamo ehm quali sono ehm i in questa sempre in questa call tornando alla call ehm vediamo che la Commissione Europea ci invita a leggere la call documentation. La call documentation è quella che vi ha mostrato la dottoressa Scordino all'inizio sul participant portal. Vedete vedete che qua c'è proprio un link al participant portal. Ehm e per cui andate veramente a leggere tutti i documenti relativi alla call al eh manuale eh del portale al manuale online del portale e poi qua c'è un altro un altro documento che è l'EU Grant Aga cioè il la Notated Grant Agreement che è un altro passaggio molto importante perché nella Notated Grant Agreement avete una serie di informazioni sul budget sulle spese sostenibili su come ripartire il budget eccetera. Quindi sono documenti necessari alla presentazione dei progetti. Ehm in questo caso non abbiamo delle financial guidelines che ci sono in altri programmi ma le financial guidelines sono sostanzialmente nella Notated Grant Agreement. Ehm quindi di seguito abbiamo una spiegazione di che cosa ha all'interno la nostra call quindi la spiegazione del background obiettivi scopi attività e che cosa può essere finanziato e quali sono i risultati attesi. Ehm il timetable cioè quanto dura la call quanto resta aperta quando saranno valutati i progetti e quando potranno effettivamente partire i progetti. Questo è un passaggio importante perché eh se noi intendiamo realizzare delle attività che per esempio questo penso eh non so alla call memoria no? In cui magari vogliamo celebrare degli anniversari se vogliamo sto faccio un esempio eh celebrare il venticinque aprile ma noi sappiamo che il nostro progetto ci viene eh finanziato dagli inizi di maggio ecco che il venticinque aprile dobbiamo ragionarlo per l'anno successivo no? Quindi insomma un'attenzione anche anche a questo oppure se vogliamo lavorare con le scuole l'attenzione al cicli scolastici per cui eh attenzione anche a quello e qual è il budget disponibile sia a livello di call in generale quindi quanto budget mette a disposizione la Commissione europea per tutta la call e qual è il budget ehm proposto per ciascun eh progetto. Eh quali sono i criteri di ammessibilità e di elegibilità eh e quindi le condizioni di ammessibilità ed elegibilità eh quali sono i criteri per dimostrare la capacità finanziaria e operativa e l'eventuale esclusione anche perché in alcuni casi vedremo molto ovviamente eh circoscritti non si può partecipare ai progetti europei. Quali sono le procedure di valutazione e di assegnazione del finanziamento? Ehm quelli che sono i passaggi poi legali per la realizzazione del grant agreement e come eh presentare la proposta eh quindi proprio una spiegazione su come viene presentata la proposta. All'interno del manuale online ci sono tutte le procedure per registrarsi e per presentare una proposta sulle EU funding and tender portal che appunto abbiamo visto precedentemente quindi proprio viene spiegato come si fa come si apre un un profilo come si ottiene un PIC che è il participant identification code che ciascun ehm partecipante deve avere e quindi ehm insomma tutte le procedure necessarie per approcciarsi al portale e delle raccomandazioni per su come preparare l'application form. Questo lo troviamo sull'online manual. Mentre sulla notated grant agreement abbiamo delle informazioni più precise in particolare rispetto a come ottenere il finanziamento compreso i costi elegibili e le modalità di pagamento da parte della Commissione europea perché in molti casi esiste quello che si chiama advanced payment cioè la Commissione europea eroga una quota che varia può variare dal cinquanta, sessanta, anche ottanta per cento in alcuni casi del grant all'inizio della dell'avvio diciamo delle attività e poi si va a copertura della della restante parte a chiusura delle attività. In alcuni casi invece come per esempio per twinning non c'è un advanced payment e poi eventuali altre obbligazioni eh accessorie. Ehm ovviamente ci incoraggiano a visitare il funding and tender portal e questo l'abbiamo visto è è è cruciale ehm e anche eh vedete questi sono tutti i link per cui a questi potete accedere i risultati delle eh precedenti eh eh call quindi il website di city del programma citizens il website del programma rec e eh il Daphne toolkit che è appunto era il vecchio programma per la lotta alla violenza contro le donne. Dopodiché entriamo diciamo questa è una parte più generale entriamo proprio nella call eh entriamo a vedere che cosa eh finanzia la call quindi background il background ci racconta da un po' il 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 perché il perché il perché hanno la commissione europea decide di lanciare una call eh su questo tema. Ovviamente la call si inserisce nel programma e il programma ehm CERB ha con obiettivo quello di eh far prima conoscere poi implementare e difendere quelli che sono i valori dell'Unione Europea, valori legati alla all'uguaglianza, alla dignità umana, alla tolleranza, insomma tutti quelli che sono i valori fondanti l'Unione Europea e quindi che cosa finanzia questo programma? Vedete eh promuovere l'uguaglianza, combattere disuguaglianze, la le promuovere la non discriminazione sulla base del sesso, della razza, delle origini etniche, la religione eccetera così come riportato dall'articolo ventuno della carta. Altra citazione andiamo a leggerci l'articolo ventuno della carta quando scriviamo un progetto. Ehm supportare e implementare politiche che combattano razzismo, xenofobia e ogni forma di intolleranza e poi supportare vedete qui le iniziative europee cioè EU anti-racism action plan, LGBTIQ equality strategy, EU strategy on combating antisemitism and fostering Jewish life, EU Roma strategic framework on equality, inclusion and participation, EU strategy of victims rights. Queste sono strategie dell'Unione Europea. Non scriviamo un progetto senza aver letto le strategie che per noi sono di interesse cioè se io lavoro su un progetto legato ai ROM naturalmente la lettura della EU Roma strategic framework on equality è necessaria prima di partire. Dopodiché passiamo a quelli che sono gli obiettivi del del bando, i temi e le priorità, le attività che possono essere finanziate e gli impatti attesi. Manuela, donami se ti interrompo solo per segnalarti che abbiamo tempo fino alle 12 e 30 quindi te lo dico così puoi calibrare magari il livello di dettaglio nella presentazione. Non so se vuoi fare vedere i punti principali perché poi sarebbe molto interessante e utile credo presentare anche l'application form così facciamo capire le informazioni che dobbiamo produrre. Te lo dico solo perché ti posso calibrare. Perfetto grazie, grazie mille. Allora farò più focus sulle cose più importanti. Qui abbiamo in questa call quattro topic fondamentali che diciamo c'è una parte di obiettivo generale della call e poi ci sono questi priorities. Il primo è appunto lottare alla discriminazione, combattere al razzismo, xenofobia eccetera che viene ben spiegato all'interno del topic e vedete come al termine di questa spiegazione puntuale di ciò che si aspetta la commissione europea dai progetti che verranno finanziati su questo topic un budget indicativo di 11 milioni e mezzo. Sottolineo questa cosa perché in questa call in particolare dove ci sono quattro topic ciascun topic ha un budget assegnato. Quindi questo è un altro criterio anche per valutare la presentazione dei progetti sul topic. Abbiamo il successivo che ha un budget indicativo di un milione e mezzo che ha l'obiettivo di promuovere la diversità e la gestione dell'inclusione nei posti di lavoro. Quindi vedete la differenza tra 11 milioni e mezzo e un milione e mezzo. È chiaro che per scrivere un progetto sulla linea 2 intanto non potrà avere un budget troppo importante ma soprattutto dovrà essere un progetto veramente forte perché venga finanziato. Queste sono valutazioni che vanno comunque fatte e vanno fatte leggendo la call. La terza attività è la lotta alla discriminazione contro la comunità LGBTIQ. Ci sono a disposizione 3 milioni di euro. E la quarta vedete call for public authorities. È riservata alle autorità pubbliche per aumentare la loro risposta alla discriminazione, al razzismo eccetera. Questo anche per fare riferimento ciò a cui accennavo prima perché soltanto il topic 4 di questa call è esclusivo a pannaggio delle autorità pubbliche con un budget di 4 milioni di euro. Di seguito abbiamo le attività che possono essere finanziate. Allora qua è una lista di attività che potrete leggere tranquillamente. Attenzione che non sono mai esaustive queste liste. Quindi vi dà un po' l'idea delle attività che potete finanziare ma non dovete per forza né andare a pescare l'attività in questa lista né pensare di realizzarle tutte. Assolutamente no. Ok mi raccomando qua c'è un passaggio sul tema del gender questo è per in particolare per CERN ma per tutti i programmi mi raccomando abbiate sempre un approccio di genere ai vostri progetti. Di seguito c'è la lista degli expected impact. L'impact è ciò che il progetto lascia sul territorio nell'ambito diciamo di intervento dopo la fine del finanziamento. Quindi che cosa veramente viene identificato con l'impatto dell'obiettivo generale sostanzialmente e qua abbiamo un'idea di che cosa la commissione si aspetta come impatto dei nostri progetti. Altro punto di lettura importantissimo perché qui la commissione ci dice che cosa vuole e naturalmente utilizzando fondi diretti noi siamo un po' il braccio operativo del desiderato della commissione. Mi rifaccio alla slide uno che ha presentato la dottoressa Scordino. Quindi dalle politiche la commissione lancia da dove vuole arrivare la commissione, lancia dei programmi, lancia delle call, noi lavoriamo sulle call, rispondiamo a un bisogno del nostro territorio ma parallelamente stiamo realizzando il desiderato dell'ente finanziatore. Quindi gli expected impact della commissione europea devono essere un po' il faro che ci conduce nella scrittura del progetto. Naturalmente gli expected impact sono diversi per ciascuno dei quattro topic che abbiamo visto precedentemente. Il budget a disposizione in questo caso è di 20 milioni però avete visto che è diviso nei vari topic. Qui abbiamo la tim table and deadlines di cui abbiamo parlato prima. Ho detto che scadeva il 25 giugno, scusate scade il 20 di giugno, sbagliato. E qua però vedete quando vedete la grant agreement signature firma del grant agreement sarà fra dicembre e febbraio 2024. Naturalmente il rispetto della deadline è fondamentale e non aspettate l'ultimo giorno perché l'ultimo giorno tipicamente il sistema ma non funziona benissimo. Non c'è possibilità perché il portale chiude, cioè non c'è proprio possibilità di presentarlo un minuto dopo la scadenza della call, mi raccomando. In alcuni casi la commissione europea decide per un prolungamento dei termini ma lo decide con un certo anticipo e ripeto è qualcosa sulla quale nessuno può intervenire ma mi raccomando rispettate le deadline. Ci racconta come può essere presentata la proposta cioè sul portale e poi ci spiega le quattro, cioè diciamo i tre parti fondamentali della proposta che sono la parte A che contiene una serie di informazioni amministrative sul partecipante e sul partenariato, la parte B che vedremo insieme dopo che è la parte tecnica cioè dove va scritto il progetto, il documento su cui va scritto il progetto e la parte C invece che può contenere in alcuni casi alcuni documenti aggiuntivi. Mi raccomando fate sempre in modo che la vostra proposta abbia tutti i documenti necessari sui documenti di supporto inserite solo quelli che possono realmente essere utili alla valutazione, d'accordo? Quindi non inondate i valutatori documenti che magari non sono importanti. Vedete qua documenti obbligatori, la budget table che vedremo al volo dopo, il curriculum standard per il project team, quindi qua valutiamo la capacità operativa, mi raccomando quando presentate le proposte fate in modo di avere un curriculum inglese dei principali attori del progetto per dimostrare che siete bravi, che sapete fare queste cose. Un report di attività del coordinatore dell'ultimo anno, questo è un report narrativo, d'accordo? Quindi non dovete presentare il bilancio ma dovete presentare che cosa ha fatto il coordinatore sul tema naturalmente, no? Se è per esempio un comune e sto lavorando sulla cultura, non presenterò i risultati sul verde pubblico ma presenterò ciò che è stato fatto sulla cultura, quindi molto dettagliato. Una lista dei progetti presenti, diciamo dei finanziamenti ottenuti precedentemente dal coordinatore e nel caso in cui il vostro progetto, questo è molto importante, coinvolga bambini, minori, bisogna sempre allegare una child protection policy, quindi degli standard di protezione dei minori nel caso in cui questi vengano coinvolte. Vedete che in questo caso le proposte sono limitate a massimo 45 pagine, evaluators will not consider any additional pages, quindi 46 non vanno bene, non è un pochino in più, 45 non di più, perché la quarantaseesima pagina viene oscurata, cioè non la possono leggere, quindi mi raccomando rispettate il termine di pagina. Elegibilità, quindi per essere... Nella, perdonami, perdonami se ti interrompo, volevo anche segnalare che il sistema, una volta che viene caricata e inviata la proposta, rilascia ed è importante perché a volte ci possono essere problemi di malfunzionamento, rilascia una mail di conferma, quindi se il liar, che poi vedremo chi era, che è il rappresentante accreditato, diciamo, sul portale, il rappresentante della legal entity, se il liar, che è colui che carica materialmente la proposta in capo all'ente capofila, al leader, non riceve la mail, tu mi confermi che vuol dire che l'invio non è andato a buon fine. Quindi il proponente deve sempre sincerarsi di avere ricevuto la mail che conferma il buon esito della trasmissione, altrimenti vuol dire che c'è stato qualcosa, qualche problema tecnico e quindi bisogna verificare. Sì, esattamente, per questo dico anche di anticipare un pochino rispetto alla deadline, la presentazione, perché solitamente l'ultimo giorno il sistema è molto carico e tarda un po' nel caricamento di tutti i documenti, per cui ci potrebbe volere un tempo perché il sistema riceva e poi lanci la mail, per cui per essere più tranquilli, ripeto, abbiamo avuto sei mesi e mezzo, se anche anziché il 20 presentiamo il 18, dico che è possibile farlo. Quindi sì, la mail di conferma della commissione che arriva all'IR e anche ai liar di tutti i partecipanti che hanno presentato il progetto come PIC, perché naturalmente la commissione, se viene utilizzato il nostro Participant Identification Code, informa tutti, perché sennò si potrebbero utilizzare senza consenso alcuni PIC. Solo per dire che ovviamente ci fermiamo, tu vai avanti, però tutte queste informazioni a cui accennavi che sono molto importanti, formali del PIC, dell'IR, di come avviene la registrazione, non la vediamo, però è rappresentata nelle slide che caricheremo sul portale. Quindi ora ci concentriamo su questi aspetti che sono molto più importanti e molto più sostanziali, solo per dire che queste informazioni di tipo tecnico operativo sono presenti nelle slide che troverete sulla pagina di Eventi IPA. Scusa se ti ho interrotto. No, no, perfetto, ottimo, quindi posso sorvolare su questa parte più tecnica. Allora, per essere elegibili quindi bisogna essere entità legali, private o public, ed essere stabiliti in uno dei paesi country, scusate, uno dei paesi elegibili. EU member states, allora, su questo una parola, in generale, gli stati membri possono sempre essere tutti paesi elegibili, su CERV non lo sono su alcuni programmi territoriali, accennava anche prima Raffaella, tipo Interreg, è tutta un'altra cosa, però su CERV tutti i paesi membri sono elegibili e saranno elegibili i paesi che avranno firmato, e lo faranno in futuro, degli accordi di cooperazione tra il paese membro e la Commissione europea. Ad oggi nessun paese terzo ha firmato questi accordi, quindi se dovesse esserci una domanda, posso lavorare con l'Albania? In questo momento la risposta è no, solo quando l'Albania firmerà un accordo con la Commissione europea. Qua vedete una specifica sui criteri di elegibilità, vedete per la prima, seconda e terza priorità, vedete chi può essere elegibile, il coordinatore deve essere non profit, eccetera, eccetera. Qua abbiamo una serie di informazioni, attenzione, le attività devono avere luogo in un paese elegibile, quindi non posso fare attività fuori dall'Europa, la massima durata del progetto è di 24 mesi, altro tema importante, il grant non può essere inferiore a 100.000 euro, altro tema importante, i progetti possono essere national o transnational, questo è un caso, attenzione che laddove siano national, inserite una spiegazione precisa e approfondita del perché state facendo un progetto nazionale, quindi la Commissione predilige progetti transnazionali, nel caso in cui ci sia la possibilità di fare nazionali, va bene, però spiegate bene il perché avete deciso di farlo nazionale. L'application deve coinvolgere at least two applicants, quindi almeno due partecipanti, quindi vuol dire che non posso partecipare da sola, mentre, e per la quarta priorità, quindi vi ricordate quella dedicata alle public authority, ecco che ci sono altre condizioni, quindi il coordinatore deve essere un'autorità pubblica, eccetera eccetera. Qua ci sono dei casi specifici che potete leggere, vanno veramente nel dettaglio. La composizione del consorzio, cioè la composizione del partenariato, vedete che anche qua c'è una differenza tra i primi tre topic e il quarto topic, però ci spiega approfonditamente come intendono avere il partenariato. Perdonami Manuela, c'era un riferimento al fatto che entità affiliate non potessero, no? Prima c'era una risposta su cosa si intende, una domanda su cosa si intende effettivamente per soggetto affiliato. L'affiliato è un soggetto... Però qui vedo che la proposta può essere fatta da almeno due applicant beneficiari, not affiliated entities, quindi... L'affiliato è sostanzialmente quello che è una controllata in Italia, comunque che ha, diciamo, una relazione legale con il coordinatore. Quindi quando parliamo di due applicants diversi, dobbiamo avere due soggetti giuridici diversi e indipendenti tra di loro. Non posso lavorare con me e una parte di me stessa, per intenderci. D'accordo. Quali sono le attività elegibili? Quindi qua abbiamo una spiegazione delle attività elegibili. Dove devono tenersi la geographical location? La durata, abbiamo detto, da 12 a 24 mesi. Il project budget non meno di 100.000 euro. Ethics and EU values. Io vi suggerisco per questo programma di fare molta attenzione a questa parte, no? Quindi etica e valori europei, perché sono, diciamo, è il cuore del programma. Quindi mi raccomando, gli standardetici, leggete in particolare l'articolo del Trattato dell'Unione Europea, in cui ci enuncia quelli che sono i valori dell'Unione Europea. e qua avete una serie di altri link importanti, il Gender Mainstreaming Toolkit, Non-Discrimination Mainstreaming Instrument, eccetera. Usateli per fare i vostri progetti, per rendere i vostri progetti migliori e più facilmente finanziabili. Vedete un altro hyperlink legato alla Child Protection Policy. Qua c'è una parte sulle Financial Capacity. Le Financial Capacity ogni volta andate a leggere esattamente, perché in alcuni casi è richiesta il bilancio, l'ultimo bilancio approvato, quindi del coordinatore. Quindi in alcuni casi è sufficiente quello del coordinatore, in altri casi si chiede che vengano presentati anche i bilanci dei partner. Questo in particolare però per programmi più complessi. Però fate attenzione a dimostrare ciò che viene richiesto. solitamente i public bodies, gli enti pubblici non hanno bisogno di questo, però è solitamente sempre solo per il coordinatore. Nel caso, vedete, in questa parte, quindi in questo caso, nel caso di entità affiliate, è possibile che vengano fatti controlli specifici. Però vedete che nella call c'è davvero tutto spiegato chiaramente. La capacità operativa, quindi il know-how, la qualifica e le risorse, ripeto, mi raccomando, spiegate sempre bene sia chi siete come persona giuridica, sia quali quali professionalità attivate, quindi sia le competenze del partner che partecipa, ma sia anche le competenze di chi lavorerà nel vostro team. Spiegate anche bene la relazione fra i vari partner, come intendete lavorare insieme, quindi questo dà molto dell'operational capacity del progetto. Qua c'è la parte di esclusione, quindi verificate di non essere in bancarotta, eccetera, eccetera, quindi su questi sono, guardateci, ma mi auguro che non ricambiate in questo caso. Qui abbiamo la valutazione e il criterio di assegnazione del finanziamento e qua vi spiegano appunto come sarà valutato il vostro progetto che alla fine da chi è con, da chi non persone, ma qual sarà la procedura di valutazione, alla fine riceverete una evaluation result letter, cioè una appunto una valutazione e da lì partirà la parte di grant preparation, quindi di preparazione del contratto. A questo aveva già accennato Raffaella, quindi quali sono i criteri di valutazione importanti, sono la rilevanza, cioè come il progetto risponde a un bisogno nostro, ma anche come si colloca nella struttura europea, la qualità, quindi la consistenza del progetto e l'impatto. Vedete che qua diamo anche dei numeri, cioè la rilevanza deve essere minimo 25, massimo può essere 40, non c'è un minimo per la qualità e non c'è un minimo per l'impatto, però diciamo sono come massimo c'è 40 e 20. Per arrivare a un minimo score per essere approvata la proposta di 70 è un massimo di 100. Ok, qua ho altre informazioni sull'inizio, su quelle che sono le milestone e i deliverable, qua ho una serie di informazioni anche sul budget categories e cost eligibility, quindi quali sono i criteri di elegibilità. Dico solo una parola sul LAMPSAM. Il LAMPSAM ha appunto questa caratteristica di costi forfettari e ci sono due tipologie di LAMPSAM. In questa call il LAMPSAM che cosa dice? Il proponente scriverà un budget dettagliato della sua proposta, poniamo che il budget dettagliato al Monti ha 500 mila euro e la commissione darà un finanziamento del 90% di questi 500 mila euro. Però, e diciamo, e lì si ferma il dettaglio del budget. Quindi poi il proponente dovrà dimostrare di aver realizzato quelle attività per ricevere quel finanziamento. Questo è LAMPSAM di primo livello. E poi nella seconda call guarderemo quello di secondo livello, mi concentrerò in particolare solo su quello. E poi abbiamo qua tutti i, diciamo, quelli che sono le caratteristiche del reporting, eccetera. Non mancate di leggere questa parte che è l'ultima ed è in grigio, mi raccomando, perché qua c'è il famoso glossario di qui sopra. Quindi qua avete tutta la definizione chiara dei termini, dei ruoli, che cos'è un affiliato, cos'è un associato, eccetera. Quindi mi raccomando, guardate questa parte. Allora, vado rapidamente sulla seconda FISH. Dico rapidamente perché naturalmente la struttura delle FISH è molto simile l'una all'altra. Questo qui parliamo del programma Europe for Citizens partecipazione civica. Quindi vedete che la struttura è molto simile. Qua abbiamo tutti i documenti di riferimento, eccetera. Per cui, diciamo, la struttura è simile ma mi raccomando andate a leggere con attenzione i contenuti. Adesso sorvolo per, diciamo, per dedicarmi, per dedicare un quarto d'ora all'application form. Volevo soltanto riportarvi alla, vedete, in questo caso per esempio l'eligibilità. I progetti devono essere trasnazionali e le application devono coinvolgere al limite al minimo due applicants da due different eligible countries. Quindi in questo caso noi non possiamo fare un progetto nazionale. Proprio ci sono differenze in ciascuna call. Voglio riportarvi soltanto sulla parte di budget perché questo è un bando che ha un budget completamente diverso ed è un lump sum di tipo 2 cioè che per ogni attività viene indicato vi farò vedere poi il budget calculator un valore. Questo valore è dato dall'incrocio tra il numero di partecipanti di persone di beneficiari e il numero di paesi partecipanti. e questi lo vedete qua in questa definizione di work package ciascun work package sarà un event cioè ma non è un evento in italiano ma è un'attività e dovremmo incrociare appunto il numero di beneficiari dell'evento con il numero di paesi partecipanti. Io diciamo che su questa call sorbolo per mostrarvi invece l'application form così vediamo insieme cosa dobbiamo scrivere nella nostra application form io consiglio questo imparato un po' con gli anni di leggere tutto ciò che c'è scritto quindi anche questa parte in grigio che potrebbe essere potete potreste pensare per esempio che non è fondamentale in realtà leggetela per esempio qua dice che questa è l'application form per per il qual che il limite di pagina è 45 quindi ci dà delle informazioni anche sulla tipologia di carattere minimo area 9 quindi insomma ecco leggetela con attenzione andiamo a vedere che cosa chiede l'application form il nome del progetto l'acronimo e i corpi non lo vediamo Manuela scusa vediamo sempre la call precedente allora faccio così faccio interrompo condivisione e provo a ricondividere nel frattempo approfitto per segnalare a coloro che fanno delle domande in chat se per motivi di tempo non dovessimo riuscire a evaderle rispondere a tutte le domande vi preghiamo di riportarle di rimandarle a europe direct chiocciola formez punto it sarà nostra cura a rispondere e fare un po' come la commissione facciamo delle fac quindi una volta raccolte tutte le vostre domande formuleremo delle brevi risposte le renderemo disponibili sulla pagina di eventi PA per la consultazione così come la registrazione del webinar di oggi e delle slide che sono state presentate ora vedete l'application sì ok perfetto c'è questa breve maschera appunto in cui inseriamo i dati di base del progetto poi il primo il primo box da riempire è il project summary attenzione questo project summary deve essere identico a quello che inseriremo nel form A che sta all'interno del portale quindi deve essere riportato pari pari consiglio il project summary fatelo alla fine della scrittura del progetto deve essere mi sembra che siano massimo 2000 caratteri una sintesi che verrà pubblicata ed è la prima cosa che leggono i valutatori quindi fatelo bene mi raccomando poi abbiamo la rilevanza quindi background e general objectives qua dobbiamo spiegare qual è la razza del progetto vedete che nel box grigio questa parte è una spiegazione fornisce una spiegazione di che cosa dobbiamo poi andare a inserire nella parte testuale quindi qua ci spiega come il progetto è rilevante per lo scopo della call in che maniera si dirige agli obiettivi generali della call quindi questo testo deve fare molto riferimento alla call spiegando però non dicendo il progetto risponde all'obiettivo 3 perché risponde all'obiettivo 3 mi raccomando non sono dei copia e incolla allora needs analysis and specific objectives vedete qua c'è una parte va bene questa parte in grigio la rivediamo dopo quella in verde analisi del bisogno cioè perché stiamo scrivendo questo progetto qual è il bisogno che cosa ho fatto per capire che esiste quel bisogno sul mio territorio nel mio settore quindi argomentare il bisogno lo stato dell'arte come rispondiamo a quel bisogno e quali sono gli obiettivi specifici che intendiamo raggiungere all'interno del nostro progetto con le attività che metteremo in campo complementarietà con altre azioni e innovazioni valore aggiunto europeo cioè come come i risultati di precedenti attività siano finanziate o non finanziate possono aiutarci a diciamo come sono complementari qua in questo box è importante spiegare come il nostro progetto sia all'interno di una strategia di lungo periodo quindi come il nostro progetto sia interessante per noi e interessante per la commissione europea perché risponde a un bisogno che nel tempo stiamo risolvendo quindi portare per esempio dei risultati i progetti precedenti in questo progetto per poi appunto farlo farlo decollare ecco qua vedete ci sono una serie di spiegazioni all'interno del box che vanno oltre il titolo per esempio quali paesi which countries will benefit from the project cioè quali paesi direttamente o indirettamente beneficeranno del progetto quindi non soltanto i nostri partner ma se noi faremo delle attività di divulgazione a livello internazionale lo spiegheremo si creeranno se energie con altri progetti europei come quindi voi mi raccomando leggete con molta attenzione ciò che c'è nel riquadro grigio perché vi darà molte indicazioni la qualità concept e metodologi come farò ciò che dico che voglio fare c'è proprio la metodologia che metto in campo attenzione perché questo è diciamo caratterizza molto il nostro progetto può essere che ci siano più progetti con lo stesso obiettivo generale o con gli stessi obiettivi specifici ma la metodologia è veramente ciò che ci caratterizza e mi raccomando scegliete una metodologia che sia nelle vostre corde se lavorate su un tema legato alla ricerca è chiaro che sarà un'università che sarà un centro di ricerca a farlo se invece devono fare un progetto molto legato alla piazza all'incontro con i cittadini possiamo pensare ad associazioni o comuni eccetera quindi mi raccomando la metodologia il consorzio come ho stabilito il consorzio che relazioni esistono tra i partner perché ho scelto quei partner la tipologia eccetera quindi proprio il consorzio project team staff and experts qui abbiamo proprio una una griglia in cui inseriamo il nome e la funzione della persona qua parliamo di persone fisiche a quale organizzazione appartiene inteso del partenariato cioè a quale partner appartiene ruolo azioni profilo professionale ed expertise qui dobbiamo inserire quindi un breve curriculum della persona per dimostrare che è qualificata per fare ciò che la chiamiamo a fare ovviamente se stiamo parlando del project manager dovremo raccontare di quanto è bravo o brava a fare il project manager non altre competenze perché ricordatevi che qua abbiamo 45 pagine di limite quindi non mettete dei curriculum enormi anche perché poi vedremo che possono essere allegati qui è possibile anche indicare persone non diciamo non con dei nomi e cognomi cioè per esempio posso dire all'interno della mia riprendo l'esempio di prima all'interno del mio ente non ho un social media manager quindi metterò name and function social media manager organizzazione il partner e poi dirò to be appointed si dice quindi to be recruited cioè da essere individuato non metterò il nome proprio qua va inserito appunto il subcontractor il subcontractor di cui abbiamo parlato prima qua dovete già indicare in questo paragrafo 2.4 invece parlerò della gestione del consorzio cioè proprio del management del consorzio e delle procedure decisionali quindi come prendo le decisioni come gestisco il mio consorzio se ci sono dei gruppi non so il project team si incontra quindi insomma c'era non so un board che decide su alcune cose chi fa parte di questo board quindi proprio la tipologia di gestione del consorzio il management l'assicurazione della qualità il monitoraggio e la valutazione strategica molta attenzione a questo box perché qui dobbiamo indicare non solo come gestirò il progetto ma come ne assicurerò la qualità quali sono i sistemi di monitoraggio cioè di verifica anche dei tempi che mettiamo diciamo dei tempi necessari che abbiamo garantito alla commissione e quali saranno la valutazione attenzione il monitoraggio è più rispetto dei tempi e dei costi la valutazione al contrario è più una valutazione della qualità dei risultati raggiunti quindi io posso per rispondere anche a una domanda di prima avere un sistema di valutazione interno al progetto che mi garantisca la qualità poi necessaria da dimostrare alla commissione europea qui abbiamo l'efficacia dei costi quindi come il progetto utilizzerà come utilizzerà i fondi diciamo in maniera efficace ed efficiente dopodiché abbiamo la parte di risk management cioè quali sono i rischi possibili che corre il progetto li dobbiamo descrivere in che pacchetto di lavoro e come intendiamo affrontare quei rischi nel caso in cui questi si si ponessero quindi i rischi reali che il progetto al quale il progetto può andare incontro c'è la parte di impact quindi dell'impatto di lungo periodo quindi che cosa lascio sul territorio dopo la fine del progetto e qua rientra il tema di sostenibilità di cui parlava prima anche Claudia quindi anche qua leggete con attenzione vi darà indicazioni come intendo diffondere comunicare e rendere visibile il nostro progetto e la visibilità attenzione del nostro progetto ma anche dei fondi europei che ha utilizzato quindi garantire anche la visibilità alla commissione europea che sta finanziando il progetto secondo le regole che la commissione mette a disposizione sostenibilità quindi nel lungo periodo long term impact e continuazione quindi possono essere per esempio non so la creazione di una rete che negli anni porterà avanti il mio progetto qua arriviamo al work plan il work plan sono i pacchetti di lavoro cioè il progetto sarà diviso in macroattività che corrispondono a dei pacchetti di lavoro e qua per ciascuna macroattività si replicherà questo format del pacchetto di lavoro in cui inseriremo una breve descrizione del pacchetto di lavoro stesso gli obiettivi adesso vado più sotto quindi al pacchetto uno c'è tutta la spiegazione precisa la durata del pacchetto di lavoro il beneficiario gli obiettivi il pacchetto a sua volta verrà spacchettato in task quindi in sottoattività in cui indicherò il nome la descrizione e chi parteciperà le milestone che non sono necessarie nel senso se ne inseriscono alcune per progetto non necessariamente una per pacchetto di lavoro e sono quei momenti importanti e topici del progetto che vogliamo indicare alla commissione europea come molto importanti poi abbiamo la parte di deliverable che è appunto la produzione di materiali vedete che possono essere documenti report prototipi website eccetera inseriamo tutte le indicazioni sono quegli strumenti che servono anche alla commissione europea per valutare la diciamo l'efficacia del nostro progetto poi abbiamo un'indicazione sull'estimated budget vedete qua c'è scritto che non è da applicare in caso di lamp sum 2 cioè in caso di europe for citizens per intenderci diversamente faremo una breve scheda riassuntiva dei costi di personale di accommodation in subsistence che abbiamo già fatto nella nostra scheda descrittiva lunga qui riporterete tutti i subcontratti e faremo un Gant semplificato per tutto il progetto attenzione al punto a ethic and values quindi rispettare avete una lunga spiegazione qua potrete spiegare tutta la parte di mainstream approach di children di protezione dei minori la parte di protezione anche dell'ambiente mi raccomando fate attenzione a tutte queste cose le potete spiegare qui va bene direi che questo basta salvo l'ultimissima pagina in cui vedete la list of annexes questi sono gli annex che devono essere uploadati al portale di cui parlava Raffaella quindi per ciascuna tipologia di call verificate quali sono i documenti necessari da uploadare sul portale in questo caso per esempio i curriculum vite che abbiamo messo in maniera molto sintetica nella nostra application form possono costituire un annex se insomma se mangiacoli se è obbligatorio o se non lo è però noi abbiamo delle professionalità importanti vogliamo condividerle li applaudiamo sul portale se mi regalate un minuto solo vi faccio vedere il budget calculator per citizens che è giusto per dimostrarvi quanto è intuitivo e semplice vi chiedo solo di dirmi se vedete l'excel che ho cambiato ancora c'è la condivisione dell'application pop allora io faccio così e rifaccio così velocissima perché voglio soltanto dimostrarvi quanto è semplice vedete nella prima pagina ora dovreste vederlo del budget una schermata aperta che oscura parte della chiudi l'icona per favore di quel programma che hai aperto o sono io sono io scusate ok va bene così vedete questo per l'AMPSAM cioè Europe for Citizens la seconda tipologia di programma che vi ho presentato vedete che con uno tre paesi partecipanti e con un evento partecipato da tra 25 e 50 persone la commissione ci mette a disposizione 13.000 euro per gli eventi in situ in presenza mentre per gli online c'è bisogno di minimo 100 partecipanti proventi da 2 3 paesi questi sono diciamo lo schema di budget della commissione quando vado a compilare il budget guardate come è semplice per l'evento 1 che poniamo sia online menu a tendina quanti paesi partecipano facciamo che ne partecipano da 2 a 3 quanti partecipanti mi aspetto vedete che il minimo è 100 quindi da 100 a 102 avrò 13.000 euro se invece realizzo un evento fisico quindi in situ poniamo che partecipano da 4 a 6 e che mi aspetto di avere nel mio evento 60 persone quindi da 51 a 75 ecco che avremo il budget di 18.000 avanti così e vediamo che il budget calculator ci calcola perfettamente il budget in automatico quindi questo per dire che ecco che il lump sum agevola moltissimo anche la struttura di budget io ho rubato due minuti quindi vi ringrazio dell'attenzione scusate lo sforamento grazie mille a te Emanuela sei stata preziosissima hai dato preziosissimi contributi e quindi grazie veramente di cuore che nonostante le difficoltà sei riuscita a essere presente sebbene da remoto le slide che non abbiamo ultimato ripeto le renderemo disponibili quindi finiamo qui la presentazione passo la parola però le pubblicheremo insomma nel giro di pochissimi giorni e nulla ti passo la parola allora io volevo ringraziare Emanuela Marsano Raffaella Scordino e anche scusatemi anche i nostri colleghi che ci aiutano da remoto che sono Gianluca Finito e Giorgia Gasbarro Giorgia Gasbarro che ci hanno aiutato nella gestione anche delle vostre domande non riusciamo a rispondere a tutte le domande perché ne sono arrivate moltissime allora possiamo procedere così per qualche domanda inerente diciamo la progettazione potete inviarle a noi invece per domande più specifiche che riguardano i singoli strumenti finanziari vi chiediamo di contattare i punti di contatto nazionale che troverete all'interno della banca dati programmi comunitari io chiuderei ringraziando tutti ma voglio passare ora la parola a Marta perché diciamo il nostro webinar si conclude online vi ricordo l'ultimo appuntamento molto interessante dell'otto giugno dove parleremo dell'importanza dell'euro cioè 20 anni di euro questo è un appuntamento che ci ha proposto il partner della Europe Direct della provincia di Verona che sarà fatta insieme alla Banca d'Italia dove si parlerà di euro dell'importanza e per diciamo anche un po' per contrastare le fake news che negli anni si sono creati sulla nostra moneta proseguiamo ora con il collegamento proseguiamo il collegamento perché ci sono numerosi partecipanti per chi volesse restare però diciamo che la registrazione del webinar viene interrotta qui così sulla pagina di 20pia ci sarà solo no ci sarà anche continueremo la registrazione con la con il nostro punto di riferimento quindi ci sarà proseguiamo con la registrazione no stai chiedendo ok io voglio solo ringraziare